Questa giornata dedicata al giorno della memoria del nostro Ateneo, il magnifico rettore si scusa, purtroppo non riesce a essere con noi, gli dispiace veramente tanto e certamente avrebbe aperto il convegno con i discorsi che probabilmente alcuni di voi si ricordano che ha fatto in questi anni sempre molto belli, molto profondi. Ovviamente non posso tentare neanche di imitarlo e quindi inizierei appunto dando quelle parole della senatrice Liliana Segre che in un bellissimo volume, Il mare nero dell'indifferenza, dove viene riportato in questo volume le parole che aveva pronunciato nel momento in cui è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Mattarella. Salvare dall'oblio quelle storie, coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Il mio impegno per tramandare la memoria, contrastare il razzismo, costruire un mondo di fratellanza, comprensione e rispetto in linea con i valori della nostra Costituzione, continuerà ora anche in Parlamento, ma lo dico sin d'ora senza trascurare la mia attività con gli studenti. E ancora dichiara, non posso darmi altra importanza che quella di essere un araldo, una persona che racconta ciò di cui è stata testimone. Ho iniziato appunto con queste parole che esprimono ovviamente in modo magistrale il senso di, credo che muova ciascuno di noi in tante situazioni, in tante occasioni, ovviamente chi ha una storia da raccontare in maniera ancora più forte, più coinvolgente, ma in realtà tutti noi, che siamo tutti comunque persone con i propri ideali, con i propri principi e tra l'altro in Italia comunque cittadini di un paese in cui la nostra Costituzione nasce proprio per evitare che quegli orrori possano ancora ripetersi. Appunto è lo stesso, è lo spirito che muove ciascuno di noi nell'organizzare e nel ritenere che iniziative come queste siano importanti. Noi abbiamo voluto, con il Rettore Franzini, fare in modo che ci fosse una giornata di Ateneo dedicata al giorno della memoria, che ci fossero degli eventi di Ateneo. Eventi e studi e anche lavoro quotidiano con gli studenti appunto sul, per quanto riguarda diciamo il tema del razzismo, dell'olocausto e di tutto quello che è successo con la persecuzione appunto nazista e fascista, noi, tanti di noi lo svolgono, lo svolgevano. Però io credo che un evento istituzionale ogni anno sia un qualche cosa di importante proprio a segnalare il fatto che ci si deve impegnare in questo senso e sempre di più. E allora il filo rosso che lega le nostre iniziative a partire dal 2019 è proprio questo, cioè di fare in modo di unire la riflessione storica doverosa, però a una riflessione sull'oggi, cioè a quello che poi è il nostro impegno oggi, oppure purtroppo a tanti fenomeni che oggi hanno delle forme diverse ma che non sono poi in realtà, non nascono da sentimenti piuttosto che da situazioni che non possano purtroppo drammaticamente ripetersi. Questo è il nostro impegno quotidiano. Il primo anno il convegno, non so adesso diciamo a tediarvi con i titoli, però il convegno era diciamo una riflessione fra storici e giuristi e la sera seguita dalla proiezione di un documentario Memoria di Ruggero Gabai che raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio. Il secondo anno ci siamo concentrati sulla lingua dell'odio fra memoria e attualità e quindi con una collaborazione appunto fra storici, giuristi, linguisti. Nel 2021 abbiamo organizzato un convegno le diverse forme della memoria e quindi con un percorso multidisciplinare tra diritto, storia, attualità, psicologia e arte e il pomeriggio è stato dedicato alla memoria di Nedo Fiano che è un sopravvissuto ad Auschwitz appena scomparso nel 2020 che allora era appena scomparso. Nel 2022 abbiamo scelto il tema raccontare la Shoah, cioè abbiamo cercato di analizzare come viene raccontata la Shoah nel mondo del diritto della storia e della letteratura e nel pomeriggio abbiamo organizzato un incontro sul libro Charleston, storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah di Enzo Fiano. Oggi il convegno ha come titolo la discriminazione dei diversi e la Shoah. Questo aspetto a mio avviso, anche come professoressa di diritto costituzionale, è molto importante perché è qualcosa che non tutti sanno, comunque non tutti sottolineano con la dovuta importanza, cioè che in quei campi di concentramento non c'erano solamente ebrei o ebree, c'erano anche donne, anche donne non ebree, c'erano anche omosessuali, c'erano anche rom, c'erano anche persone con disabilità, quelle che appunto chiamiamo disabili le persone con disabilità. Quindi c'erano persone che in un modo o nell'altro, oggi chiameremmo persone alla cui discriminazione dobbiamo fare in modo che non esista, perché la nostra Costituzione dell'articolo 3 dice questo, ma erano tutte lì, quindi perseguitate perché diverse. E la radice di quello, e anche la radice di quello che è successo allora, diciamo, e le cause piuttosto che anche gli effetti o il modo appunto della, diciamo, della discriminazione, purtroppo in forme diverse non le ritroviamo ancora oggi. Quindi ancora oggi questa riflessione unisce e unirà il passato al presente. Poi concluderemo questa mattina con una performance teatrale di un'attrice, tra l'altro giovane, Carolina De Castiglioni, passato e non passato, e la sera sarà dedicata a un concerto che vedrà appunto l'orchestra Unimi. Avremo un incontro alle 19 sulla musica perseguitata, in cui interverranno la professoressa del DOZOP, il professor Fertonani. Alle 20.30 con l'associazione Musica Adesso avremo in collaborazione un concerto dell'orchestra Unimi. Con l'esecuzione della sonata per violino e pianoforte, composizione giovanile di Aldo Finzi. Aldo Finzi appunto che è un musicista che purtroppo non ha potuto far conoscere la sua musica perché poi è morto prematuramente durante la guerra e la cui musica è stata riscoperta appunto solo qua pochi anni fa, molto bella e che non aveva appunto potuto farla conoscere in quanto ebreo. E l'evento appunto organizzato da dottoressa Luisella Mollina, direttore generale dell'orchestra Unimi. Vi ho detto tutto, vi ringrazio moltissimo e a questo punto chiamo per i saluti istituzionali innanzitutto Gadi Luzzatto Voghera, direttore del centro di documentazione ebraica contemporanea, ringraziandolo tantissimo, ringraziando il centro per la vicinanza a noi e la collaborazione ormai diciamo pluriennale. Grazie. Grazie, grazie mille, ringrazio la professoressa D'Amico con la quale veramente collaboriamo da tanti anni e per la fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea è un onore e anche un dovere, un dovere istituzionale collaborare e mettere a disposizione le sue fonti, le sue ricerche e per proseguire un percorso di approfondimento iniziato tanti anni fa sostanzialmente in Italia con l'istituzione del giorno della memoria che ha attivato delle forme di manifestazione anche a livello istituzionale spesso di grande significato come quelle che vengono organizzate dall'università statale di Milano, a volte retoriche. Su questo io richiamo l'attenzione di chi lavora, di chi si impegna nell'organizzazione di questi eventi perché lasciarsi trasportare dalla retorica rischia di annacquare il significato politico, perché ha un significato politico per un paese, ragionare sul peso del suo passato, sul peso delle scelte e raccoglierne in qualche modo la responsabilità per migliorare la vita del presente. La fondazione CEDEC raccoglie e mette a disposizione una ricca biblioteca che negli ultimi mesi ha iniziato ad essere popolata da decine e decine di studenti nella nuova sede al memoriale della Shoah e mette a disposizione un ricco archivio che continua ad arricchirsi da nuove donazioni di materiale che il cui studio muta di continuo la prospettiva di ricerca su quello che ha significato la Shoah, lo sterminio degli ebrei, l'antisemitismo in generale, per il nostro paese e per naturalmente per le comunità ebraiche. Devo dire che pronunciare delle parole di saluto in questa occasione nell'aula magna dell'Università Statale di Milano i cui muri al di fuori sono tappezzati di steli dedicate alla resistenza antifascista di studenti e docenti di questo Ateneo che si opposero al regime fascista ha un significato che a mio modo di vedere deve essere ribadito. Il dettato della legge, il numero 211 del 20 luglio del 2000 che istituisce il giorno della memoria su questo linguaggio e su questo tema come tutte le leggi proposte dal Parlamento in qualche modo è un po' reticente perché è figlio di un compromesso politico che mai come oggi viene sentito nei due articoli della legge della memoria non viene mai citato il termine fascismo e questo è qualche cosa che manca perché il silenzio, l'oblio è una forma di distorsione e va ribadita questa cosa proprio in questo momento non dire o mettere la parola fascismo è distorsione per cui quando si dice e recito la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz giorno della memoria al fine di ricordare la Shoah sterminio del popolo ebraico bisogna dire chi ha compiuto questo sterminio le leggi razziali bisogna dire chi ha pensato e promulgato queste leggi la persecuzione italiana dei cittadini ebrei bisogna dirlo di nuovo ribadire il concetto e anche gli italiani non ebrei che hanno subito la deportazione la prigionia la morte ragionare in maniera esplicita su queste cose e solo ragionare in maniera esplicita ci può portare a comprendere il peso di determinate scelte che ha previsto anche l'esclusione dei diversi di cui oggi ragioneremo e purtroppo mi scuso ma non potrò rimanere per molto tempo al convegno perché gli impegni istituzionali sono moltissimi oggi quindi io ringrazio di nuovo la professoressa Marisa D'Amico e con lei il rettore che purtroppo non è potuto essere fra noi e l'università statale per aver organizzato ancora una volta questo convegno manifestando un'attenzione particolare e una coscienza civile che all'università statale non manca di certo grazie 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 davvero tantissimo per queste parole e io mi riconosco pienamente il silenzio dobbiamo appunto insegnare anche ai nostri studenti a non guardare a non girarsi dall'altra parte in tutte le situazioni in cui appunto c'è sopraffazione, violenza, esclusione ora immediatamente la parola per il saluto istituzionale a Marco Vigevani presidente del comitato eventi del memoriale della Shoah di Milano anche lui con cui collaboriamo da tanto e che ringraziamo tantissimo per la sua vicinanza buongiorno a tutti grazie per essere arrivati nonostante uno sciopero dei mezzi che ci ha colto di sorpresa io porto i saluti del nostro presidente Roberto Iarach e anche di tutti i numerosi volontari che insieme a me con me lavorano al memoriale della Shoah binario 21 di Milano che penso molti di voi conoscono come ha ricordato Gadi Luzzatto voghera siamo oggi arricchiti dalla presenza del centro di documentazione ebraico contemporanea nella biblioteca aperta a tutti gli studenti e dalle visite di migliaia e migliaia di studenti non solo durante il mese della memoria ma durante tutto l'anno e oggi tra l'altro in questi giorni e anche a febbraio vi invito a venire a visitare e avremo anche più visibilità di una volta ci sarà una la chiamerei una stela elettronica al binario 21 in alto a ricordare l'esistenza del memoriale della Shoah binario 21 nella parte ipogea della stazione il memoriale della Shoah si impegna da molti anni non solo al ricordo dello sterminio ebraico e delle leggi razziali ma a lottare contro quell'indifferenza che sta scritta per volontà di Liliana Segre sul muro all'ingresso del memoriale che cosa vuol dire? vuol dire che siamo particolarmente vicini a delle manifestazioni come quelle di oggi in cui la Shoah viene collegata ai fenomeni dell'oggi cioè mentre noi dobbiamo senz'altro non solo sperare ma fare di tutto perché la Shoah nel suo orrore rimanga un fenomeno unico nella storia dell'umanità non dobbiamo dimenticare che i meccanismi che hanno portato alla Shoah sono tuttora attivi e presenti sempre Liliana Segre ricorda in maniera molto efficace che il primo tracciato del binario che porta ad Auschwitz è stata la firma ignominiosa del re Savoia Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali quindi la speranza del fatto che la Shoah rimanga un fatto unico per la quantità industriale per la crudeltà eccetera non deve farci pensare né che sia una cosa che riguarda solamente gli ebrei come diceva Jean-Paul Sartre l'antisemitismo non riguarda gli ebrei riguarda gli altri ma ci deve fare stare molto molto attenti a rilevare i fenomeni i meccanismi che magari insensibilmente portano verso la discriminazione soprattutto in un mondo come quello di oggi in cui la democrazia è in grave crisi le dittature gli autoritarismi sono in avanzata e riallacciandomi a quello che ha detto Gadi molto importante secondo me dobbiamo anche come dire esercitare una vigilanza sul fatto che la commemorazione della Shoah non deve diventare una foglia di fico per coloro che ricordano solo lo sterminio ebraico e poi nell'attività quotidiana civile politica invece sono del tutto indifferenti alle discriminazioni degli altri e purtroppo questo lo vediamo avvenire quotidianamente è un rischio assolutamente da evitare cioè chi non si impegna e non ha sensibilità per la discriminazione di tutti dei diversi non può a buon titolo e con coscienza pulita ricordare la Shoah e questa è una cosa io credo molto molto importante per cui il convegno di oggi non solo è benvenuto ma è assolutamente necessario perché noi siamo convinti che insieme all'attività storica svolta al centro di documentazione ebraico contemporanea insieme alla nostra attività educativa bisogna assolutamente che la Shoah sia una cartina di tornasole se volete un litmus test per evitare il ripetersi di quei fenomeni che portano comunque all'emergenza del disumano ringrazio tutti particolarmente il rettore che non è potuto essere con noi voi tutti e la professoressa D'Amico che tra l'altro è molto vicina a tutti noi e con cui faremo delle belle iniziative prossimamente grazie 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 davvero grazie per queste bellissime parole e faremo ulteriori iniziative insieme perché io credo davvero che più cose diciamo mettiamo in campo e sempre pensando di parlare alle giovani generazioni oltre diciamo che fra di noi più appunto saremo efficaci quindi grazie davvero grazie soprattutto per la vostra presenza ora abbiamo intanto ringrazio moltissimo il comune di Milano che ha voluto essere presente qui nella persona appunto della presidente della commissione diritti De Marchi e adesso abbiamo la presenza scritta della professoressa Milena Santerini vicepresidente del memoriale della Shoah di Milano con cui lavoriamo anche con lei da tanto diciamo da tanti anni e con cui appunto condividiamo anche proprio questa prospettiva anche scientifica di ragionare sulla diciamo sulla mente che forma sulla mente che si forma sul linguaggio che odia cioè su come appunto questo un linguaggio odiante quindi è un problema un grande grosso problema di oggi poi possa in qualche modo formare le persone formare la realtà determinare appunto la realtà e come possa anche essere eventualmente modificato cioè stiamo lavorando da anni e Milena appunto è sempre stata molto vicino a noi oggi non può essere presente fisicamente ma ci ha lasciato un testo scritto che chiedo alla dottoressa Nanne Relfiano di leggerci e con questa occasione la ringrazio anche tantissimo perché Nanne Relfiano è diciamo la anima di queste iniziative da quattro anni era ancora dottoranda poteva tranquillamente diciamo dedicarsi alla sua tesi di dottorato peraltro su un tema tecnico ma quando le ho chiesto di aiutarmi era appena diventata prolettrice ho visto gli occhi che le brillavano e da allora non mi ha più mollato come è diciamo nel suo stile cioè di star sul pezzo quindi grazie Nanne Relfiano e grazie tantissimo alla professoressa Santerini grazie grazie molto alla professoressa D'Amico innanzitutto ecco leggo con piacere il saluto che ci ha lasciato la professoressa Milena Santerini che è il seguente ringrazio sentitamente Mari-Lisa D'Amico infaticabile studiosa e animatrice culturale e il suo gruppo di lavoro per questo incontro così importante che vede collaborare il Memoriale della Shoah di Milano e l'Università degli Studi di Milano colgo l'occasione di questo incontro per annunciare la creazione della rete italiana della memoria che raccoglie i luoghi italiani del concentramento deportazione eliminazione e in generale del ricordo della Shoah italiana oltre al Memoriale di Milano che si è fatto promotore la risiera di San Sabba Trieste il campo di Fossoli a Carpi il Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara il Museo della Shoah di Roma il Museo di Ferramenti di Tarsi in collaborazione con il gruppo FS e il Ministero dell'Istruzione e del Merito sono previste agevolazioni per le scuole che vorranno visitare questi luoghi così importanti per la nostra società nel 1938 anno della promulgazione delle leggi razziali erano presenti nel nostro paese circa 47.000 ebrei avevano ricevuto la piena emancipazione giuridica durante il periodo risorgimentale ed erano assimilati nella società italiana in grande maggioranza del centro e del nord si potrebbe ragionare a lungo sulla presunta diversità della popolazione ebraica ma una cosa è certa e cioè che essa è un costrutto sociale la discriminazione dei diversi cioè deve avvenire rendendo diversi alcuni gruppi della popolazione italiana sul piano civile come scriveva e scrive Michele Sarfatti la legislazione anti-ebraica del 1938 dovrà rompere il patto di uguale cittadinanza stretto nel risorgimento ciò che è avvenuto quindi non ha riguardato l'individuazione dei presunti diversi ma il processo per cui i gruppi bersaglio sono stati resi tali per poterli eliminare o distruggere il caso degli ebrei è il più evidente ma ciò vale anche per gli omosessuali i rom e altri deve esistere una comune umanità di cui quel gruppo non fa parte va costruito un nemico che farà da capo espriatorio delle angosce del popolo il processo inizia quindi anzitutto con l'individuare e disegnare le persone separandole dal resto della popolazione si inizia dai censimenti il cui inizio per quanto riguarda gli ebrei residenti in Italia data all'estate 1938 e saranno quegli elenchi preziosi per mettere ai nazisti e le autorità fasciste le deportazioni dal 1943 Marco Cuzzi ha ricostruito con precisione tutte le fasi della deportazione a Milano individuare e censire era un primo modo di discriminare va notato però che il termine discriminazione è stato usato nella persecuzione in senso opposto a quello che usiamo oggi discriminati erano quegli ebrei che sfuggivano alle misure per eccezionali benemerenze un altro aspetto del meccanismo riguarda invece l'isolamento delle vittime occorreva allontanarle renderle distanti isolarle per far sì che la popolazione fosse complice o indifferente l'aspetto della distanza è infatti fondamentale in senso fisico sociale e morale come ha mostrato Marcella Ravenna solo separando rendendo invisibile il gruppo escluso dalla comune umanità si possono tacitare le normali e sentive reazioni di solidarietà che i cittadini avrebbero potuto avere occorre poi sollecitare l'immaginario perché il nemico sia sfigurato in questo senso come sappiamo il ruolo dei media anche se infinitamente meno avanzato di oggi è stato decisivo dal cinema ai manifesti dalla musica alla radio una propaganda martellante contribuiva a disumanizzare il gruppo diverso la persecuzione utilizzava poi un nuovo linguaggio che appunto stigmatizza la diversità il linguaggio creato dal terzo Reich come ha mostrato Viktor Klemperer doveva appunto definire e separare per poter emanare provvedimenti discriminatori inoltre doveva progressivamente disumanizzare le persone infine va osservato che tutto il sistema della discriminazione e della deportazione si serviva di una copertura scientifica quindi adottare le ben conosciute teorie mitologiche della razza o per quanto riguarda i disabili le teorie eugenetiche naturalmente sotto tutto l'apparato della discriminazione dell'annientamento anche se esige il consenso era basato sulla paura paura e odio sono un composto psicologico tra i più stabili che esistono così Bernano si insieme in 1947 paura e odio verso una diversità costruita con cura dal regime fascista hanno autorizzato la violenza la lezione per l'oggi non è quindi immaginare una falsa omologazione ma piuttosto difendere e conservare il pluralismo della società democratica magari faticoso senza cedere alla tentazione di nuovi nazionalismi e logiche di esclusione grazie 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 alla professoressa santerini per questa bellissima riflessione chiedo adesso come per in conclusione alla nostra direttrice dell'orchestra Luisella Molina di venire a dire appunto diciamo un raccontarci che cosa cosa succederà questa sera grazie grazie a voi grazie molte come vedete c'è un pianoforte qui sul palco e quindi la nostra orchestra Nimi che è l'orchestra di Ateneo ha deciso di partecipare al giorno della memoria quindi abbiamo inserito nella nostra stagione concertistica un incontro e un concerto l'incontro sarà alle 19 il concerto alle 20 e 30 l'incontro appunto ha come titolo la musica perseguitata e vede la partecipazione di due docenti del nostro dipartimento di beni culturali che sono Cesare Fertonani e Silvia Del Zoppo che si sono occupati di queste tematiche le leggi razziali del 1938 colpirono anche i musicisti furono sviliti furono revocati gli incarichi che avevano quindi se uno era un direttore di un'orchestra non lo era più furono costretti a fuggire furono internati nei campi di concentramento e morirono nei campi di concentramento e proprio all'interno di questi luoghi dell'orrore la musica aveva un ruolo era strutturata la musica quindi c'erano dell'orchestre a Auschwitz Birkenau se ne contavano addirittura sette di cui una formata solamente da donne e la musica accompagnava momenti di intrattenimento e accompagnava anche i crimini più efferati e all'interno dei campi di concentramento studi recenti stanno ritrovando molte testimonianze del fatto che si componeva musica quindi era così un modo per superare queste situazioni assolutamente inimmaginabili per noi e quindi il professor Fertonani e la professoressa del Zoppo ci tratteranno di questi argomenti poi nel concerto invece che così nello spirito di collaborazione che la nostra orchestra ha con altre istituzioni milanesi appunto accoglieremo l'MD ensemble che è un ensemble con un organico variabile e questa sera appunto sarà composta da una clarinettista una violinista un violoncillista e un pianista e che appunto eseguiranno la sonata per i violini del pianoforte di Aldo Finzi appunto che è stato era un compositore milanese molto promettente che vide la sua carriera struncata proprio dalle leggi razziali e poi verrà eseguito un brano che è l'emblema della musica quella che si chiama la musica concentrazionaria quindi composta all'interno dei campi di concentramento che è il quartetto per la fine dei tempi di Olivier Messiaen Messiaen era un soldato francese che fu appunto portato in un campo di prigionia esattamente nello stall anche di Gurlitz e lì ebbe in questa situazione orribile ebbe la fortuna di incontrare un ufficiale che era capo di questo campo che era appassionato di musica e quindi gli chiese di comporre qualcosa per un concerto e Messiaen raccontò appunto che aveva a disposizione un pianoforte e poi diciamo coinvolse in questo momento altri prigionieri appunto un violinista un violoncellista e un clarinettista e quindi ci fu questo concerto che ebbe luogo il 15 gennaio del 1941 e questo quartetto per la fine dei tempi fu eseguito davanti a altri prigionieri il campo contava 30.000 prigionieri e ovviamente alle guardie e Messiaen in seguito disse che in quella situazione il privilegio di poter comporre della musica fece sì che probabilmente lui all'interno di quel campo di prigionieri era l'unica persona libera quindi questo è vogliamo vorremmo nella nostra stagione nelle nostre future stagioni concertistiche mantenere questo appuntamento del giorno della memoria e abbiamo pensato di iniziare appunto includendo nella nostra programmazione questo brano che sicuramente ha un grandissimo significato quindi se qualcuno è interessato ci sono ancora posti disponibili questa sera tutte le informazioni si trovano sul sito della nostra orchestra orchestra.unini.it grazie grazie io non adesso si sente benissimo allora grazie grazie davvero io sono felice di questo perché queste contaminazioni insomma il fatto che appunto la nostra orchestra diciamo sia parte dell'evento di Ateneo è un bellissimo è un grandissimo significato ed è un grande successo anche di quello che stiamo facendo tutti insieme allora iniziamo la nostra giornata ringraziamo tantissimo appunto chi ci ha portato i saluti istituzionali e tra l'altro con delle riflessioni che aprono diciamo in maniera molto importante chiedo adesso il primo intervento sarà da remoto ma intanto chiedo agli altri relatori di venire qui sul palco insieme insieme a me abbiamo allora il primo intervento della professoressa Sanna qui darò fra un secondo la parola il secondo la professoressa Bendelli la professoressa Riva il professor Arconzo la professoressa Continisio il professor Cuzzi e il professor Dall'Orto dovrebbero esserci posti tutti assegnati se potete mettervi vicino a me scusatemi ma io ho rubato un microfono comunque penso che funzioni anche questo lo mettiamo qui così abbiamo ognuno diciamo non ognuno un microfono ma insomma ce lo passiamo almeno due ecco io sono qui io mi chiedo vi chiedo scusa se intorno alle 11 per un'oretta più o meno ma anche meno dovrò allontanarmi un secondo e lascerò a coordinare la dottoressa Fiano che vedo bene allora iniziamo dalla prima relazione la prima relazione ha il titolo Hans Kelson la morte dell'avversario lo zaino del padre e la difesa della vita di ogni essere umano e sarà praticamente svolta dalla professoressa Simonetta Sanna docente di lettura tedesca dell'università degli studi di Sassari la professoressa Sanna è stata presidente dell'associazione dei germanisti italiani vanta numerose pubblicazioni internazionali sul settecento tedesco la letteratura degli anni venti di Rilke Kafka la letteratura moderna e contemporanea rappresentazione della follia nella letteratura tedesca la letteratura ermetica e le immagini letterarie la ringrazio moltissimo per questa sua partecipazione ecco ricordo a tutti i relatori credo che ve l'abbiamo già detto in anteprima non è una minaccia ma insomma però diciamo come ogni anno adesso ci sono due volumi che praticamente usciranno fra un mese perché hanno avuto un po' di ritardo a causa era un periodo difficile quello del covid e così via del 20 e comunque due volumi che usciranno noi abbiamo praticamente anche voluto in qualche modo lasciare un segno proprio per l'Ateneo per i giovani con una pubblicazione insomma e quindi chiedo a tutti poi vi perseguiteremo cioè vi daremo dei termini ovviamente non strettissimi insomma però noi ci terremo moltissimo a continuare questa tradizione quindi appunto a lasciarci lo scritto quindi poi vi scriverà la dottoressa Fiano anche da parte mia quindi lo dico in anteprima alla professoressa Sanna quindi a lei immediatamente la parola grazie grazie buona giornata da Berlino ringrazio molto l'Università di Milano e la professoressa D'Amico per l'invito di cui mi sento onorata ecco Hans Kylson 1909-2011 ha iniziato a scrivere il romanzo intitolato La morte dell'avversario nel 1942 negli anni in cui egli stesso era vittima della persecuzione nazista nel 1936 lo scrittore ebreo che era anche medico e psicanalista fu Gino l'Anda dove si nascose e si unì alla resistenza suo padre e sua madre morirono invece ad Auschwitz Birkenau proprio come i genitori del protagonista del romanzo e nel romanzo nonostante l'avversario cui fa riferimento il titolo La morte dell'avversario non sia altri che lo stesso Adolf Hitler il giovane ebreo intorno a cui ruota l'azione rifiuta cito di accettare il grido di guerra e rendere eterno il conflitto tuttavia non indulge a un ingenuo pacifismo ma si impegna cito nell'esperimento forse folle di scandagliare il confronto fatale con l'avversario da una prospettiva diversa in altri termini intende a tal punto comprendere di che stampo sia fatto B cioè Hitler da poterne carpire il segreto il segreto del linguaggio odiante come diceva la professoressa D'Amico e affrontare cito i sempre nuovi avversari che scenderanno in campo ancora prima che possano conquistare il potere si tratta come possiamo immaginare di un romanzo complesso di un obiettivo complesso ma di straordinaria attualità tanto che nel mio studio sulla morte dell'avversario di cui sta per uscire in Germania alla seconda edizione interrotto il romanzo come un vero e proprio libro di esercizi nella lotta e per la lotta contro l'inimicizia oggi per ragioni di tempo mi soffermerò su un solo episodio del romanzo quello in cui gli anziani genitori preparano i pochi bagagli in vista della loro deportazione se se B ha individuato in loro il nemico il figlio difenderà nella figura del padre e della madre l'umanità di ogni essere umano e come il Kaddish recitato per i defunti evita di nominare la morte così anche la rievocazione del figlio celebra il valore di ogni fenomeno che appartiene alla vita il protagonista che è anche il narratore non accompagnerà i genitori oltre la soglia del lager se le disposizioni di B hanno approgato le norme consuete sia della vita sia della morte provocando quella cito fratura nella continuità dell'umanizzazione come la chiama Kylson culminata con Auschwitz il racconto delle ultime ore trascorso dal padre e dalla madre tra le pareti domestiche oppone a questa frattura il tesoro impareggiabile della vita umana nella pienezza del suo cadere sensibile contro la necrofilia di B il figlio dà il valore al vissuto comune degli esseri umani come parte integrante di quella storia della civiltà che Hitler e il suo seguito hanno revocato insieme al diritto alla vita via abolito per ogni gruppo di diversi anche i diritti elementari al cibo alla difesa dal freddo alla protezione dalle malattie e alla cura degli anziani pertanto la difesa del figlio concerne non i diritti civili ma poi i bisogni elementari che a Narend nelle origini del totalitarismo chiama il diritto ad avere diritti o il diritto di ogni individuo ad appartenere all'umanità nelle ultime righe del suo libro la teorica politica ancora questo concetto questo diritto al concetto di natalità di Agostino che spetta ad ogni essere umano per nascita una realtà come quella della Shoah scaturisce da sviluppi antitetici le vittime non furono soltanto strappate alla loro vita ma veniva sottratta come dice lo storico tedesco canadese Moshe Poston la maschera dell'umanità per rivelare quello che secondo i nazisti erano ombre cifre astrazioni numeriche in seguito li si privava cito degli ultimi avanzi di valore d'uso concreto e materiale vestiario oro capelli sapone la volontà di distruzione concerneva ogni traccia della storia di vita delle vittime a iniziare dal loro nome e nessun testimone avrebbe dovuto sopravvivere allo sterminio rispetto alla distruzione di ogni valore e alla frattura tra vita degna o indegna di essere vissuta vera o un vera come dicevano il racconto il racconto di Kylson sviluppa un percorso opposto se in tutti gli altri capitoli del romanzo il suo protagonista difende la differenza la singolarità di ciascun essere umano di cui nessuno è mai identico ad alcun altro che visse o vivrà Anna Arendt ora mette in rilievo la comune pluralità di tutti gli esseri umani ogni vittima rivive nel ricordo dei genitori il giovane ebreo di Kylson procede inoltre a un ulteriore atto di riparazione se B degrada l'essere umano a stuc a pezzo il protagonista restituisce persino agli oggetti una loro specifica qualità costruiti e usati dagli esseri umani perdono la loro mera funzione strumentale per integrarsi alla vita delle persone conferiscono continuità all'habitat umano e lo spandono così che tutte le strade del mondo sembrano incrociarsi nella strada dei genitori infine come se fossero eterni gli oggetti intensificano e moltiplicano il tempo non si intrecciano soltanto con la vita dei genitori forzatamente interrotta ma le dischiudono alla successione ininterrotta delle generazioni tanto è così che a differenza di ogni altro capitolo del romanzo in questo lo sguardo del protagonista non è più rivolto al futuro ma al passato al ricordo della vita piena del padre e della madre la narrazione dettagliata della preparazione dello zaino contrasta l'aritmetica di morte senza anima dei campi di sterminio conferendo all'episodio una validità esemplare vale a dire la facoltà di combinare in modo misterioso il particolare con il generale per vedere nel particolare quello che è valido in più di un caso così a Nare che qui riprende Kant in questo modo lo zaino conserva la memoria di tutte le vittime che hanno affrontato con i loro pochi bagagli il viaggio verso l'inferno dei Lager riuscendo a suo modo a tramandarne il ricordo il dissenso rispetto al non luogo e al non tempo dei campi di sterminio non potrebbe essere più silente e allo stesso tempo più udibile la narrazione suggerisce implicitamente non solo la straordinarietà dei misfatti di B ma vista dalla prospettiva limitata di due anziani genitori l'ingiustizia commessa sembra grande oltre ogni misura nell'episodio padre e madre vanno dunque incontro alla morte di B e dei suoi volontorosi complici hanno decretato per loro il dolore del figlio si comunica al lettore senza riserve leggerò un brano del romanzo non li rivedrò più mia madre piangeva mio padre portava uno zaino tu che prima di portarlo padre e mentre lo riempivi per portarlo preparavi insieme tutti gli zaini del mondo con gli ultimi possessi di una vita che ci sissa sulla schiena tu che in passato preparaste ai bambini molti altri tuoi zaini gioiosi più leggeri per escursioni dalle quali si ritorna prima di preparare questo l'ultimo il tuo ultimo che solo una volta verrà rinchiuso a fatica e continua a prepararlo con cura riflettendo bene perché non ci si dimenticano le cose necessarie le poche cose necessarie per quest'ultimo cammino perché non sia troppo pesante con le tue abili maniche afferrano con energico slancio era uno zaino grande vecchio e logoro per i molti appuazioni che nella sua vita era già stato riempito e votato spesso un piccolo globo fin tanto che lo porti allegramente sulla schiena nel bel mondo già un po' vecchio e consumato ma si può ancora adoperare questo qui era una vecchia sfera terrestre in cui era stata insufflata sempre nuova vita per un'escursione era vecchio come matusalemme e mio padre avrebbe comprato solo uno spago nuovo marrone scuro di canapa intrecciata per poterlo ben rinchiudere così era pronto di nuovo a viaggiare e infinite volte si sarebbe potuto tornare ancora a casa con lui fine della citazione se nella sua morte B sarà in seguito rappresentato come cosa morta tra cose morte lo zaino del padre è l'immagine di una vita piena retta da mani abili e preparato con cura riflettendo bene insieme con energico slancio nel corso degli anni lo zaino ha stabilito innumerevoli fidati legami contiene ricordi di avventure e di viaggi capaci di ricominciare ogni volta da capo vecchio come matuselemme lo zaino raccoglie l'esistenza dei genitori cui non è stato dato di invecchiare insieme la storia infinita degli ebrei nella continuità di cultura e natura passato e presente di gioia e dolore è come un piccolo globo terrestre che conserva anche i suoni e i colori riempito e svuotato innumerevoli volte è un testimone trasmesso ai bambini affidato alla cura di ogni singolo seppur piccolo ha spazio per interminabili ricordi ed esperienze per i progetti realizzati e da realizzare di persone diverse e pur sempre uguali una sola cosa manca a questa immagine il futuro il ritorno a casa dei genitori che vi impedirà è lui che ha imposto al padre di rinunciare alla valigia adatta a viaggi la cui meta si sceglie in piena libertà costringendola a portare uno zaino dal volume ridotto dentro al quale stipare l'intera sua vita se secondo Elia Scanetti il potere si misura dallo spazio occupato allora il padre appare davvero estraneo alla follia della storia con pudore il padre affida allo zaino le cianfrusaglie sue e della moglie assegnando a ciascuna di essi un significato ciascuna gli è cara perché trattiene la loro vita nello spazio e nel tempo consueto il luogo cui vanno incontro corrisponde infatti a una radicale esposizione come denuncia la sua prima risposta alla domanda del figlio cosa mi porto sapone per esempio cito per prima cosa dunque ha preso il sapone come se al mondo non ci fosse niente di più importante del sapone da prendere con sé per un simile viaggio è come se il primo giorno il signore avesse creato il sapone l'osservazione del figlio rinvia all'abitare il mondo da parte degli esseri umani che lo popono di sé e delle loro abitudini il richiamo al primo giorno della creazione conferisce un'ascendenza divina ogni frammento del creato persino al sapone man mano che lo zaino si riempie la realtà a cui i genitori vanno incontro appare sottesamente in tutto il suo raccapriccio vi ha offeso ogni manifestazione dell'esistenza sì che ogni cosa bella buona giusta e capovolta nel suo contrario ogni elemento necessario diviene superfluo anche le poche cose calde da mettersi addosso cito biancheria calze pantaloni camicie di lana lo stretto necessario contro il freddo non fanno che anticipare le immagini gelide delle istituzioni dello sterminio estranei ai processi dinamici complessi concatenati e caldi Levi-Strauss costretto a partire per il lager con la moglie malata il vecchio non dimentica neppure gli oggetti di scambio con il tabacco si può sempre ottenere qualcosa ma anche il sempre è messo fuori gioco da vie e dai suoi scherani pronti a separare i vecchi avviati verso il crematorio dai propri bagagli destinati a essere saccheggiati ma funzionava e cito poiché funzionava era immodificabile così Franz Stank comandante di Treblinka nel paese della rivoluzione gutenbergiana non solo era negato il nesso con la civiltà ma anche quello con la cultura passata e futura degradata barbarie come evidenzia il figlio che ricordando un vecchio tema scolastico su cito quali libri avrebbe portato con sé se rivolge al padre una domanda che vi ha trasformato in un senso io stesso trovai assurda la domanda mi vergognavo dell'ottusa superstizione che bisognasse portarsi dietro un libro lui restò in attesa vedeva il mio barazzo poi disse col calma un libro ma quale libro puoi consigliarmene uno con l'ultima domanda aveva colpito un centro perfetto impossibile sfuggire non saprei disinfetta non è poi così importante il padre osa confessare a se stesso che il sé determinato da B non prevede libri ma li brucia davanti all'università per mano degli studenti e su istigazione dei loro professori proprio per via negativa è ora il padre a dare risposta alla domanda che nella morte dell'avversario costituisce il centro perfetto al quale è impossibile sfuggire ci sono circostanze in cui il sapere non funge da baluardo Robert Musil lo aveva ricordato come provocatoria lungimiranza Parigi nel 1935 durante il congresso internazionale degli scrittori in difesa della cultura quando Arendt volge la domanda in positivo nei rari momenti in cui ogni post è in gioco il sapere deve insegnare a discernere il bene dal male il bello del brutto volendo portare con sé qualche foglio di carta stampata il padre afferma mi ricopierò una ricetta su come si cucina la corteccia d'albero deve essere una ricetta cinese e in Cina è considerata in determinate circostanze una prelibatezza e il vecchio tiene a tal punto conto del sé della circostanza della cesura rappresentata da Bi da creare un nesso con un mondo lontanissimo dal suo così riparare a suo modo la frattura creata dall'altro ma nei suoi ultimi giorni è la fame che teme di più per sua moglie per sé il lagare è la fame noi stessi siamo la fame fame vivente si legge in sequestro un uomo di primo Levi invece poiché Bi insieme al futuro ha cancellato il passato il padre non porterà con sé la medaglia di valoroso soldato tedesco nella grande guerra come Kyle se ricorda anche nella poesia a mio padre quando andò in esilio cito la croce di ferro lasciala qui senza avere dubbi per il viaggio appesantisce troppo il bagaglio ma è la chiusa rappresentare l'acme del capitolo che conferisce una nuova torsione al tema di vita e di morte se ogni oggetto che lo zaino contiene rappresenta la vita dei genitori che volge al termine il canto dell'orfano intonato dal figlio finisce per coinvolgere negli interrogativi del romanzo il senso della vita le scelte degli uomini e infine lo stesso creatore cito perché se il primo giorno il signore avesse creato il sapone allora ha creato ogni cosa anche B se non che nella morte dell'avversario non è il cielo essere chiamato in causa ma ogni singolo essere umano in quanto dopo Auschwitz cito Dio non ha più nulla da dare ora tocca all'uomo dare come ha sostenuto Pensionas molti anni dopo quando Kielsen ormai centenario leggerà nell'America House di Heidelberg il capitolo dedicato allo zaino interromperà la lettura piangendo cito ciò che rimane è un dolore incolmabile vi ringrazio grazie per questo bellissimo intervento e do immediatamente la parola alla professoressa Giuliana Bendelli docente di letteratura inglese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano anche la professoressa ha insegnato in università straniera come il Trinity College di Dublino l'Università di Kuturku in Finlandia cultrice dell'opera di James Joyce ha scritto saggi su vari autori tantissimi autori ha tradotto testi mai pubblicati prima in italiano dell'autore irlandese Brendal Kenley e Lewis Carroll l'intervento della professoressa Bendelli ha un titolo anche questo molto importante e molto significativo che cos'ha papà che non va la percezione della diversità in la terra promessa di Carla Farber di Constance Weill grazie grazie moltissima Giuliana Bendelli grazie a voi ditemi se si sente per risparmiare tempo allora grazie buongiorno a tutti e desidero innanzitutto ringraziare la professoressa Maria Lisa D'Amico per avermi offerto l'opportunità di partecipare al convegno di oggi alcuni anni mi sono dimenticata di dire che c'era già stata no ma ci penso io adesso no no alcuni anni fa infatti pochi anni fa le avevo riferito della mia intenzione di coordinare un progetto di ricerca legato alla testimonianza scritta di una scrittrice americana di padre ebreo tedesco e del mio desiderio di parlarne in occasione di uno di questi incontri che lei puntualmente coordina come ci ha ricordato prima il giorno della memoria in coincidenza appunto del giorno della memoria il progetto consisteva nell'affrontare insieme alla contestualizzazione storico e letteraria la traduzione del romanzo autobiografico della scrittrice Constance Weirauk e del quale potete qui vedere la copertina dell'edizione italiana edizione appunto che fu infine pubblicata lo scorso anno proprio a gennaio il testo della versione originale ancora inedita ma prossima alla stampa era stato donato dall'autrice stessa a Maria Pia Bracchio e al marito Angelo Reggiani per motivi che sono molto ben illustrati nella testimonianza che gli stessi a Bracchio e Reggiani hanno inserito nel volume con il titolo di Il nostro incontro con Conny così infatti la scrittrice veniva chiamata dagli amici e Maria Pia e Angelo erano certamente tra quelli a lei più cari a loro Conny infatti aveva anche consegnato un album di fotografie tra le quali Maria Pia ha suggerito molto opportunamente quella per la copertina che qui vedete in pieno nell'album dell'autrice sotto questa foto che la ritrae all'età di sei anni leggiamo ciao ottobre 1939 domani Costanza va in America Costanza era nata infatti nel 1933 e morirà nel 2015 come ho anticipato l'edizione italiana è stata pubblicata lo scorso gennaio in tempo per inserirlo nella seconda sessione per la quale avevamo proposto un titolo che per dare eco al tema del convegno dello scorso anno che era appunto raccontare la Shoah recitava recitava l'eco e il riflesso della Shoah tra storia e letteratura questa seconda sessione dunque era dedicata al romanzo inedito di Constance Weirauk Clara Farber's Promise Land tradotto letteralmente in italiano La terra promessa di Clara Farber questo volume è il risultato del progetto che è stato sostenuto anche per mezzo di un generoso contributo finanziario della mia università che è appunto l'Università Cattolica del Sacro Cuore alla quale sono davvero molto riconoscente e l'Università Cattolica allora era rappresentata oltre che dalla sottoscritta dalla professoressa Elena Riva docente di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione che ci ha aiutati a riflettere sulle scelte da operare per individuare gli opportuni strumenti narrativi e le opportune prospettive metodologiche per raccontare al meglio la Shoah nella scuola in questa invece attuale edizione il contingente della Cattolica si è arricchito di un'altra rappresentante l'amica e collega professoressa Chiara Continisio con la quale da anni collaboriamo e ci scambiamo idee sull'importanza della letteratura per l'insegnamento della storia quindi sono grata anche a lei per aiutarmi a dare un senso allo studio di una disciplina forse un po' sofferente in ambito accademico l'eco e riflesso della Shoah tra storia e letteratura ci era sembrato un titolo pertinente per riferire di una testimonianza dove la Shoah è un'eco lontana presente senza essere invadente perché i protagonisti di questo romanzo per loro fortuna non furono vittime di sterminio furono vittime delle leggi razziali e quindi costretti a fuggire e a subirne gli effetti anche nei paesi di approdo Costanz Weil non si è mai ritenuto una refugee della Shoah era infatti solita dichiarare we survived io lo scorso anno avevo cercato di sottolineare il valore letterario oltre che quello di documento storico del romanzo mentre la figlia della scrittrice ci aveva raggiunti dall'America dove vive per portarci la testimonianza della biografia reale della madre e non di quella che è stata da lei tradotta in narrazione seppure molto fedelmente tanto da permetterci di poter parlare di romanzo autobiografico Maria Pia Bracchio aveva partecipato in una veste diversa da quella che le compete per il ruolo di prorettore vicario che ricopre proprio in questa università ma per portare la testimonianza davvero speciale dell'incontro tra lei e il marito Angelo Reggiani entrambi i scienziati con la scrittrice una testimonianza così densa che non si esclude una stesura a due mani di un memoriale riccamente documentato e questa è infatti la proposta che l'editore ha rivolto loro subito dopo aver pubblicato il romanzo esistono tanti libri sulle difficoltà dell'immigrazione e sul dramma degli ebrei durante il nazismo ma a rendere originale la terra promessa di Clara Farber è il fatto che il punto di vista dominante sia quello di una bambina che si trasferisce negli Stati Uniti nel periodo bellico i drammi personali di questa bambina sono piccoli quotidiani ma il contesto documenta in modo inedito e toccante una realtà storica spaventosa non parla di deportazione questa non ha rappresentato il destino dei protagonisti vittime invece degli effetti delle leggi razziali emanate dal governo fascista diciamolo qui come ci hanno invitato a fare prima nel 1938 come ha sottolineato Liliana Segre la giusta e più che legittima enfasi sulla tragedia della deportazione non deve oscurare l'orrore degli effetti delle leggi razziali allora dicevamo che si tratta di un romanzo autobiografico la storia infatti di Clara Farber ricalca molto fedelmente l'esperienza personale della scrittrice il romanzo narra a partire dal 1939 della famiglia Farber i cui membri sono Oscar Demma i genitori e i figli Hans Albert e Clara questa famiglia fugge da Francoforte in seguito alle persecuzioni razziali vive in Italia a Recco dove Oscar che è ex professore universitario ebreo di filosofia ha creato un collegio per bambini ebrei le leggi del fascismo costringono però i Farber a lasciare l'Italia per gli Stati Uniti la famiglia comincia presto ad ambientarsi grazie anche all'aiuto del comitato per i rifugiati ma Oscar purtroppo ha degli handicap fisici che ostacolano il suo inserimento nel mondo accademico degli Stati Uniti nella fattispecie è un po' claudicante e ha un tic facciale per mantenere la famiglia ricorre a quello che è sempre stato la sua passione il suo hobby e assistito dalla moglie apre uno studio fotografico l'attività di questo studio procede tra alti e bassi incontrano sempre più difficoltà dopo lo scoppio della guerra finché i Farber non vengono a sapere di non essere più autorizzati a svolgere attività commerciali nel proprio appartamento e sono costretti a chiudere lo studio definitivamente mentre la famiglia si ingegna per tirare avanti i figli crescono la grande storia incalza il sionismo lo sbarco in Normandia la morte di Roosevelt lo scoppio della bomba atomica il processo di Nuremberg e tutte le vicende storiche che nel testo sono spesso inserite e riconoscibili perché sono inserite in carattere corsivo come proprio un report giornalistico sono però osservate dal punto di vista del fronte interno mescolate ai fatti quotidiani più semplici il romanzo giunge al 1952 quando Clara che all'inizio della storia aveva sei anni sta ora partendo per l'università quindi la storia dicevamo la storia con la S maiuscola quella collettiva e istituzionale fa da sfondo le tante storie individuali e le interseca scorre parallela attraverso una scrittura che è tutta improntata agli eventi e alla percezione degli eventi al giudizio su questi una narrazione che dal punto di vista appunto di valore letterario la possiamo definire scorrevole sobria molto precisa meditativa e utilizza genere narrativo autobiografico in terza persona in modo funzionale con molta libertà disinvoltura fino alla contaminazione con il diario e ricordiamo che inversamente con altrettanta libertà Anna Frank aveva intrapreso una seconda stesura del suo diario rielaborandolo con degli accorgimenti letterari degli accorpamenti di sezioni in vista della pubblicazione e purtroppo sappiamo non ha avuto il tempo quindi non è così lontano da un diario il testo di Clara Farber scandito tra l'altro in segmenti temporali che rispettano la rigorosa successione degli anni che trascorrono dal 39 al 51 e che nel testo sono riportati come dei sottotitoli di macrocapitoli con una precisa indicazione dei mesi delle stagioni che sono tra l'altro facilmente individuabili grazie alla descrizione dei caratteristici elementi naturali basterebbe appunto citare brevemente l'incipit le fresche mattinate avevano l'odore del mare dei fichi troppo maturi disseminati per il giardino Clara che si alzava presto aveva preso l'abitudine di accostarsi al cancello d'ingresso per guardare i bambini di Recco passare a due a due o a tre a tre diretti a scuola quindi la trama del romanzo si articola su più piani da un lato abbiamo appunto le vicende della famiglia Farber che ci offrono un quadro tra l'altro variegato della società statunitense degli anni 40 con particolare riferimento alla realtà di New York la narrazione poi è costellata di allusioni a prodotti commerciali in voga film canzoni testate giornalistiche programmi radiofonici attori famosi perciò un'intera epoca viene riportata in vita sotto gli occhi del lettore subito nelle prime pagine assistiamo alla visita della famiglia all'esposizione universale Clara frequenta un campo estivo dove si festeggia solenemente il 4 luglio il fratello gioca a basket entrambi scorrazzano per le strade di New York impegnandosi in giochi di gruppo tradizionali e poi c'è un secondo livello che fotografa la condizione dei Farber in quanto rifugiati rifugiati in generale ed ebrei in particolare e l'elemento che rappresenta un ostacolo per tutti loro è fondamentalmente il loro accento tedesco che si sono portati dietro poi questo romanzo è anche un libro intimista un libro che si interroga sulla difficoltà di realizzare se stessi sui problemi etici posti dalla guerra è un romanzo di formazione che segue la crescita e la maturazione di Clara e in misura minore anche quella del fratello Hans Albert all'interno di una famiglia che possiamo definire effettivamente anomala rappresentata da un padre che è un padre educatore filosofo una madre che ha dei tratti più pragmatici che al tempo stesso però un artista dipinge e venderà i suoi disegni tra l'altro anche a riviste prestigiose e poi un libro di meditazione è un libro di riflessione sulle istituzioni sui costumi sulla cronaca e la storia e soprattutto frequenti sono le annotazioni sulla scuola sulla scuola come pratica ma anche come concetto come istituzione quella che più di ogni altra regola e filtra con tutte le opportunità e condizionamenti che vi sono necessariamente implicati l'adattamento sociale e politico l'integrazione e la cittadinanza e naturalmente non si può mancare di osservare alla luce delle testimonianze storiche sull'attività della scuola del Mediterraneo di Recco quella appunto che il padre aveva creato lì di osservare quanto questo abbia agito sulla sensibilità di Clara nei confronti dell'istituzione scolastica il padre aveva questi principi educativi informati all'umanesimo sociale che erano quelli appunto dello stesso Hans Weil nella vita e tutto questo viene molto ben espresso e documentato nel contributo di Abracchio Reggiani al quale ho fatto prima riferimento il tema sotteso e il tema pervasivo è senz'altro quello dell'appartenenza culturale e ideale e della cittadinanza politica e consapevole dei destini sia individuali che collettivi quindi quello della percezione più o meno consapevole della diversità che si intitola e arriviamo a quest'altra slide allora questa citazione dal romanzo è tratta dal primo capitolo che si intitola appunto Che cos'ha papà che non va allora qui assistiamo a un atteggiamento diverso tra Clara più giovane e il fratello già adolescente dove Clara vuole sapere perché non capisce mentre Hans Albert poiché capisce non vorrebbe sapere e quindi liquida la sorella quando gli chiede ma che cos'ha papà che non va perché la sorella assiste al momento in cui gli amici che li accolgono quando arrivano a New York fanno presente ad Oscar che la sua condizione di handicappato lui parla di handicap fisico sarà un ulteriore deterrente di difficoltà per poter essere inserito nel lavoro quindi assiste alla mamma che scoppia a piangere e si chiede ma che cos'ha papà che non va cioè non si era mai resa conto che ci fosse qualcosa che non andava e quando lo chiede al fratello la sera a letto lui le dice piantala 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 non parlarne e questo è in questa slide successiva all'interno dello stesso capitolo un paragrafo o due precedenti dove appunto si assiste allo sfogo della moglie di Oscar che dice così ingiusto sbottoni Oscar non è un handicappato quei piccoli movimenti involontari sono solo un lascito della scarlattina avuta da piccolo un uomo forte brillante attraente dovrebbero considerarsi fortunati che abbia accetto di trasferirsi in America e le lacrime le scorrevano sulle guance la diversità fa soffrire anche quando è una diversità per merito come dimostra qui la reazione che ha Hans Albert quando a scuola a causa del fatto quindi non grazie ma per colpa della sua bravura in matematica viene in qualche modo preso in giro dagli amici e quindi dichiara di non volere essere diverso e a un certo punto infatti si rifiuta di fare i compiti si rifiuta di esercitarsi per poter arrivare ad un livello più basso come quello degli amici nella scuola pubblica che frequenta e abbiamo anche esempi di diversità la diversità comportata dalle condizioni e dai luoghi ma con un'oscillazione continua qui Oscar è felice di aver ricevuto una lode una lode riferita alle sue capacità di filosofo che gli erano già state ampiamente riconosciute quando era Francoforte e quindi questo gli ricorda come lui era stato un tempo quanto era apprezzato e qui c'è quel riferimento all'immagine che allora avevano degli Stati Uniti che era più che altro visto come un paese pieno di gangster e di criminali per qualcuno di loro quando adesso invece diventa il paese che li ha accolti diventa la terra promessa per Clara e diventa il luogo in fondo nel quale anche se con alcune restrizioni si possono realizzare e comunque insomma l'hanno scampata grazie agli Stati Uniti quindi prospettive diverse che sconfinano nel pregiudizio e poi passi interessanti uno in particolare all'interno del capitolo 14 che è proprio quel capitolo che porta il titolo di la terra promessa di chi quindi quale terra promessa chiaramente la terra promessa è un concetto che varia a secondo di quello che la terra ci offre e quindi c'è questa rievocazione della casa di Francoforte rievocazione da parte del fratello più grande di Clara Clara era piccola quando la famiglia si era spostata e quando dico Clara penso a Constance l'autrice ma qui è riportato fedelmente questa situazione e quindi Clara assiste a una ricorda a un rimpianto da parte del fratello e da parte del padre di una situazione a Francoforte che lei neanche ricorda e quindi prova una sorta di nostalgia e di malinconia perché per lei in realtà la terra promessa non è Francoforte per lei la terra promessa è l'America perché è l'America che ora rappresenta per lei la situazione ideale e quindi il fatto di non condividere quest'idea di terra promessa col padre e il fratello la rattristava mi mancano pochi minuti sono ok così non ecco allora ancora ho riportato alcuni dei brani di questo voluminoso romanzo e la percezione che Clara ha della diversità dei suoi genitori perché sono genitori che non si associano a niente lei infatti dice vorrei che si associassero a qualcosa qualunque cosa che li rendesse un po' più simili agli altri i suoi genitori erano diversi probabilmente lo sarebbero sempre stati però questo è appunto il suo il suo grande intento questo non implicava che dovesse essere diversa anche lei avrebbe abbracciato con gioia qualunque gruppo in cui fosse entrata e qui siamo nella situazione in cui lei esprime il desiderio di frequentare una scuola ebraica ma semplicemente per imparare anche la loro lingua per con la curiosità che avrebbe una persona qualunque non perché vuole ricercare le sue origini e quest'ultima citazione che vi ho riportato dal capitolo dal libro è dal primo capitolo sempre dove assistiamo alle prime lezioni che Clara frequenta nella scuola in America e come vedete ho evidenziato in rosso la sua pronuncia sbagliata no? Chiara chiede che cos'è questo che suona chiaramente in italiano è stato tradotto cosa è questo e il problema era appunto di imparare a pronunciare nel modo corretto e qui si tratta della lingua inglese la lingua inglese che poi diventerà la sua lingua i bambini imparano a ripetere le parole lei sta attenta a come vengono pronunciate e si stupisce ed è rallegrata dal fatto che poter dire no le permette di essere uguali agli altri perché al nord si dice così da quelle parti aveva lo stesso significato che aveva in Italia ci dice il tragitto non è altrettanto facile per i suoi genitori in particolare loro concepiscono l'inglese come un'ennesima lingua seconda infatti una volta arrivati negli Stati Uniti parlano tra di loro in tedesco abbandonando l'italiano in Italia avevano preso lezioni private d'inglese da un'insegnante scozzese ma continueranno a conservare un'ombra della pronuncia teutonica a infarcire i loro discorsi quotidiani di espressioni tedesche che ormai sono state tradotte in un idioma privato che è l'idioma degli affetti l'idioma della nostalgia mi fermo qui ci sarebbe ovviamente tanto da dire ma quello che voglio dire alla fine è che ritengo questo testo un testo di notevole valore documentale oltre che letterario quindi consiglio vivamente la lettura e mi zittisco grazie tantissimo anche alla professoressa la professoressa Bendelli mi piacerebbe commentare ma diciamo semmai alla fine se riusciamo perché siamo andati un po' più lunghi con questi primi interventi io tra l'altro presento la professoressa ma bellissimo veramente tocchiamo il cuore diciamo di quello che è stato allora ma di quello che è ancora oggi tutto il tema della diversità e del fatto appunto dell'essere dell'omologazione cioè lo sono veramente e consiglierò anche io questo libro ai miei studenti ora presento la professoressa Riva e mi scuso con lei spero di fare in fretta perché ho un problema c'è un impegno accademico che lascio quindi il coordinamento alla dottoressa Fiano tra l'altro è arrivata la professoressa Bracchio che non sono riuscita a salutare ma insomma poi la risaluteremo dopo la professoressa Elena Riva è docente di storia moderna anche lei già presente l'anno scorso dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano abbiamo tre fantastiche professoresse dell'Università Cattolica e due fantastici professori dell'Università Statale più una ricercatrice più la sottoscritta e parla di un tema diciamo anche lei con una biografia si occupa da tempo di divulgazione della narrazione storica e di public history ha scritto articoli e libri sul tema dell'aristocrazia e della cultura nobiliare nell'età moderna con un particolare riferimento all'area geografica della Lombardia della Francia della Spagna e dell'Impero e si è occupata di narrazione storica del potere al femminile un tema che mi interessa particolarmente infatti il suo intervento è il corpo femminile come luogo di memorie di violenza e discriminazioni a lei la parola ringraziandola tantissimo grazie grazie voglio anch'io ringraziare le professoresse Mari-Lisa D'Amico e Nanna Relfiano per avermi invitato per la seconda volta ad essere presente qui è vero che vengo dalla cattolica ma mi sono laureata in università statale quindi insomma un pochino faccio parte della famiglia anche qui ecco quando mi è stato chiesto appunto di partecipare su questo tema ho pensato un po' in realtà all'oggetto l'anno scorso avevamo parlato appunto di giorno della memoria di come parlare della show all'interno della scuola quest'anno il tema era diverso sulla diversità e le discriminazioni e occupandomi appunto un po' di storia delle donne ho pensato che cosa c'è di più discriminatorio come oggetto storico che la donna la presenza femminile nella storia ho pensato di riflettere un po' sul corpo il corpo perché il corpo è centrale in qualsiasi racconto di genocidio in qualsiasi racconto di persecuzione perché il razzismo la persecuzione razziale la pulizia etnica sono strettamente legati alla fisicità delle persone da aggredire in questo caso di un intero popolo gli ebrei sono legati al suo aspetto ai suoi tratti somatici ai segni per cui si dice sono visibilmente riconoscibili l'offesa all'aspetto fisico la negazione del valore della bellezza e le umiliazioni lasciano ferite psicologiche e profonde nella dignità delle vittime il popolo da offendere le persone da offendere vengono demonizzate denigrate proprio nel loro aspetto fisico e per le donne l'offesa al corpo e quindi alla loro dignità è una storia vecchia quanto il mondo è una storia che accompagna le donne dall'inizio dell'umanità quindi l'idea di una visione del corpo della donna come oggetto come qualcosa da possedere è appunto una donna che è sempre proprietà di qualcuno una donna che è preda di guerra e sono immagini che accompagnano la storia dell'umanità il corpo della donna diventa una sorta di categoria discorsiva un dispositivo che nel nostro contesto occidentale chiama in causa anche una potente contraddittoria simbologia il corpo fertile riproduttore fragile pericoloso pubblico resistente una serie di rappresentazioni del corpo della donna che fanno parte ormai della genealogia culturale del mondo occidentale e che come ha suggerito Foucault a partire dal XIX secolo sono state anche più o meno legittimate dal sapere medico che hanno un po' rafforzato tutta una serie di interpretazioni sul corpo femminile per quanto riguarda invece il rapporto tra corpo femminile e racconto della Shoah devo dire che dal punto di vista storiografico non esiste una forte tradizione di studi sulle questioni di genere legate alla Shoah anche se nel corso degli ultimi anni ho letto un po' di cose preparando questo intervento devo dire che nel corso degli ultimi anni un po' questa ricerca questa riflessione si è rafforzata diciamo che qualcosa che qualcosa in tal senso si è mosso e la riflessione sul corpo delle donne nella Shoah mi è sembrata un punto di riflessione interessante intendendo però il corpo delle donne all'interno dei campi di sterminio come luogo della memoria perché luogo della memoria luogo della memoria in quanto depositario dell'evento il corpo delle donne come soggetto ma anche oggetto dell'esperienza dei campi di concentramento prima ancora della memoria è il corpo che ha raccontato l'esperienza del campo di concentramento un corpo distrutto devastato un corpo un corpo anientato un corpo che è diventato il veicolo di tutto quello che poteva accadere in un campo di concentramento e di sterminio e ho pensato anche però che questa realtà la realtà del corpo femminile che racconta la storia l'esperienza può essere applicata a tutti gli studi di genere perché il corpo delle donne in quanto esseri tra i più marginalizzati della storia è sempre stata una protagonista attiva passiva della storia delle donne e parliamo sempre di un corpo violato mi sono anche posta una domanda di partenza e cioè se avesse se ha senso affrontare o no il tema della Shoah da un punto di vista del genere ha senso studiare l'esperienza concentrazionale dal punto di vista del genere differenziato soprattutto quando si parla di uno sterminio di oltre 6 milioni di persone che ha visto tutti accomunati da questo punto di vista io credo che fermo restando l'orrore che ha comunato tutti i generi in questa esperienza credo che la differenza abbia un senso proprio e che questa differenza emerga nei dispositivi narrativi cioè su come viene narrata la storia ed è proprio la scrittura testimoniale a fare la differenza se consideriamo la storia diciamo delle donne dal punto di vista del corpo all'interno dei campi di sterminio anche perché il corpo femminile viene da una storia ancestrale di violazioni di persecuzioni di discriminazioni e anche la distruzione del corpo femminile nei campi di concentramento si porta dietro secoli di storie di violenze storie di violenze coperte da silenzio e sulla questione dell'oblio e del silenzio ritornerò dopo non solo silenzio ma anche biecomoralismo e mi chiedo mi sono chiesta se forse anche per questa ragione che a lungo la storiografia ha un po' taciuto e ho evitato di prendere in considerazione la presenza femminile nel racconto della Shoah dal punto di vista del corpo non dal punto di vista del racconto delle esperienze proprio perché il corpo femminile straziato e violato lo è per sempre lo è anche dopo lo è doppiamente lo è anche per quelle poche donne sopravvissute che poi a causa di un giudizio morale che pesa sul corpo violato delle donne si sono portate fuori anche dal campo di sterminio per l'idea che un corpo violato rimane una donna con un corpo violato rimane per sempre una sorta di poco di buono quindi è un'esperienza che poi queste donne si sono portate anche fuori e se si prendono in considerazione i racconti e le testimonianze che sono le fonti su cui mi sono un po' documentata per fare questa riflessione quelle donne che hanno vissuto il destino dei campi di concentramento questo appare evidente un esempio è dato dalle memorie di Lidia Beccaria Rolfi che è stata una delle donne che più ha documentato una delle internate di Ravensbrück che ha scritto tutta una serie di ricordi su cui anche a cui Bruno Maida ha dedicato dei libri molto belli lo storico Bruno Maida questo è evidente quando Lidia Beccaria Rolfi richiama lo sguardo sospettoso della gente mentre aspetta un treno per tornare a casa quando poi l'esperienza quando riesce a sopravvivere al campo di concentramento e dice lei ci sistemammo in un gruppo di donne in un vagone di terza classe dove c'erano già dei civili alcune donne e uomini che ci scrutarono con diffidenza fu allora che alcuni civili in piedi incominciarono a fissarci con uno sguardo malevolo poi uno uscì e tornò e tornò col controllore che ci chiese il biglietto chi ci assicura che non abbiano i pidocchi dicevano chissà da dove vengono ci sono i vagoni bestiame per loro avete visto ci sono delle donne si portano le donne dietro forse non riuscivano a capire perché una donna fosse finita in Germania le donne per bene stanno a casa sentiva allevano i figli servono gli uomini oppure insegnano ricamano cucinano poi ci sono le altre e io avrei potuto essere una di quelle in questi giorni ho letto anche un'intervista alla senatrice Liliana Segre nella quale sostanzialmente lei afferma lo stesso dice nel lager ho sentito con molta forza il pudore violato il disprezzo dei nazisti maschi verso donne umiliate non credo assolutamente che gli uomini provassero la stessa cosa se la Shoah è stato un orrore sotto tanti punti di vista per le donne c'è stato quell'elemento in più che ha reso l'orrore ancora più abnorme perché un corpo abusato suscita sempre disprezzo un corpo dicono le testimonianze costretto a denudarsi dei propri vestiti che erano l'ultimo scampolo di vita di casa dell'ultimo scampolo del ricordo di casa un corpo costretto all'esposizione pubblica di fronte alle altre prigionieri e alle SS e questo era da considerarsi una vergogna senza precedenti una vergogna e un pudore figli anche bisogna ricordare di un'educazione di un vivere sociale che in quel momento storico particolare venivano completamente sovvertiti a tutto questo si aggiungeva anche l'umiliazione di non essere viste come donne ma come oggetti insignificanti donne trasformate in esseri senza corpo e sempre Lidia Beccaria Rolfi a ricordare oltretutto la fatica di essere credute poi nel momento in cui tutte queste cose sono state raccontate o hanno tentato di essere raccontate la fatica ad essere credute anche perché donne quindi la storia delle deportate si è scontrata spessissimo con l'indifferenza generalizzata della società del tempo e con l'opinione molto diffusa non solo all'epoca secondo la quale le testimonianze delle donne sono meno attendibili meno obiettive meno sincere di quelle degli uomini la capitale diciamo di questo orrore nazista per le donne è stata certamente Ravensbrück le vicende accadute a Ravensbrück sono tra quelle che ricorrono meno nella celebrazione del giorno della memoria e per inciso anche tutte le volte che io chiedo a qualche studente quando parliamo di queste cose a lezione di ricordare il nome di qualche campo di concentramento devo dire che questo campo di concentramento non viene mai ricordato non viene mai nominato perché vuol dire che non è patrimonio della memoria collettiva e devo dire che è stato così fino agli inizi degli anni 90 quando pochi sapevano della sua esistenza proprio perché anche le sopravvissute si vergognavano a raccontare come se fosse stato colpa loro e se lo facevano come ho detto prima venivano additate come bugiarde o peggio ancora come complici accusate di essersi concesse volientariamente al nemico per salvarsi perché è nota la costrizione alla prostituzione per poter in qualche modo dentro questi campi salvarsi la vita che cos'è Ravensbrück lo richiamo perché credo che sia importante letteralmente Ponte dei Corvi è un villaggio prussiano 80 km a nord di Berlino dove i nazisti misero costruirono un luogo di detenzione al femminile dove non finirono solo donne ebree ma finirono tutte le donne come dire considerate non conformi o addirittura inutili infatti non parliamo solo di ebree ma parliamo di rom di sinti di oppositrice politiche di donne con problemi psichici di donne disabili di lesbiche o di prostitute e su tutte queste donne si è giocata la brutalità nazista in un modo che resta peculiare sul corpo delle donne il corpo delle donne è stato un terreno di violenze tali che non c'erano precedenti in che senso perché questa violenza era permessa sdoganata tutelata incentivata dalla legge da Ravensbrück sono passate 120.000 donne tra il 1939 e il 1945 soprattutto tedesche italiane francesi polacche e russe e una delle sopravvissute un'altra delle sopravvissute italiane Mirella Stanzione finita lì non perché ebree ma perché oppositrice politica ricorda Ravensbrück in questo modo il lager si presenta grigio tetro silenzioso si odono solo comandi secchi in tedesco e l'attrato dei cani che insieme a soldati ci circondano sulla piazza del lager notiamo una colonna di donne sono le deportate che ci hanno precedute sono magre sembrano affaticate sono visibilmente sporche e molte sono rapate hanno poco l'aspetto di donne indossano una divisa righe e ai piedi hanno gli zoccoli tutte però hanno ben visibile sul vestito un numero e un triangolo di colore diverso che le contraddistingue e le qualifica le deportate vengono rasate costrette a lavorare nella vicina Siemens con orari di 12 ore al giorno nel 1941 viene aggiunto anche un edificio speciale racconta la stanzione per gli uomini oppositori del regime da rieducare alcune ragazze scrive sono sotto i 25 anni considerate asociali e sono costrette alla prostituzione dovevano offrire racconta Mirella prestazioni sessuali ai detenuti uomini più volenterosi o ai gerarchi nazisti e una volta che fossero ritenute troppo provate da una simile brutalità diventavano delle cavie per esperimenti scientifici il regime annullava le donne con ogni mezzo le sterilizzava forzatamente le privava di cibo e dignità utilizzava il loro corpo per gli istinti sessuali e poi in nome della scienza uccisero donne disabili nel corso delle operazioni denominate T4 ed eutanasia costrinsero all'aborto quelle donne che rimasero incinte dopo aver subito uno stupro per arrivare poi alla cosiddetta soluzione finale mandarle a morire nelle camere a gas o nei forni crematori c'è un altro aspetto che riguarda il corpo delle donne che non è mai stato raccontato che rappresenta appunto una sorta di diversità all'interno del dispositivo narrativo che riguarda l'orrore della Shoah il racconto che riguarda ad esempio il ciclo mestruale le mestruazioni dice il disprezzo la vergogna raccontano tutte le testimonianze passava anche dalle mestruazioni e anche per tantissimo tempo questo discorso anche per pudore di chi era stato protagonista non è stato mai raccontato preso in considerazione ci sono veramente delle ricerche molto molto recenti in questi giorni ho letto i saggi di questa storica britannica Joanne Owusu che ha affrontato questo tema e ha messo in evidenza come nel racconto sulla Shoah non si è mai parlato sia dell'assenza delle mestruazioni che cosa questo provocava dal punto di vista psicologico per le donne e fisico sia invece che cosa significava avere le mestruazioni e vivere in un contesto simile diceva la vergogna nel vedersi sanguinare lo strappare scampoli di coperte per poter tamponare il flusso una femminilità violata anche in questo senso un orrore che si aggiungeva all'orrore come quando i gerarchi scoprivano le donne deportate con il ciclo mestruale e le additavano come cito sporche puttane non è facile io ho quasi concluso non è facile per queste donne poi recuperare il proprio corpo una volta uscite dai campi di concentramento dopo la liberazione molte delle testimonianze raccontano che le donne sono diventate oggetto di morbosa curiosità ma sono anche state costrette a ritirarsi in doloroso silenzio e a rimuovere episodi su cui scrivono nemmeno oggi è possibile fare piena luce leggo la testimonianza di una di una deportata francese che veniva da Ravensbrück ho perso il foglio dice il vicinato racconta praticamente che cosa ha trovato quando è tornata a casa dice il vicinato corse a vedere i deportati io ero l'attrazione del quartiere i primi giorni quando ero ancora molto eccitata ricevetti tutti risposi a tutte le domande ma in seguito fui così amareggiata che mi chiusi nella mia stanza e non vogli più vedere nessuno le domande che mi venivano poste erano sempre le stesse e mai stata violentata questa era la domanda più frequente alla fine mi dispiacque di essere stata risparmiata il mio unico sbaglio era stato quello di tralasciare una parte dell'avventura e questo deluso il pubblico per fortuna potei almeno dire delle violenze alle altre ha sofferto molto chiedevano è stata picchiata è stata torturata con che cosa è stata picchiata è stata sterilizzata i russi erano cattivi cosa non aveva altri vestiti e se aveva le sue cose come faceva dica c'era insomma omosessualità tra le prigioniere e come mai non è morta a quest'ultima domanda non sape rispondere quindi resistere e resistere a tutta questa situazione con aggiunta anche la difficoltà che ebbero tutte queste donne a riapproparsi del proprio corpo credo che sia uno degli aspetti su cui valga la pena oggi riflettere prima si diceva e ho veramente concluso che come dire si parlava dell'oblio io credo che il potere della narrazione quando si vuole trasmettere la memoria sia fondamentale tutte le narrazioni anche quelle che non ci piacciono perché almeno ci costringono a reagire tutto è meglio tranne il silenzio tranne il non parlare tranne l'oblio forse adesso forse adesso va grazie davvero io professora Stadamico ho dovuto andare quindi cercherò di coordinare questa sessione grazie davvero alla professoressa Riva per questa relazione bellissima sul corpo delle donne sul corpo come luogo di soprusi diciamo quindi come elemento fortemente discriminatorio le donne discriminate in quanto donne e come luogo fortissimo di memoria come appunto indicava nel titolo quindi una relazione molto forte grazie davvero bisogna parlarle occorre parlarne davvero io presento ora ho il piacere e l'onore di presentare il professore Arconzo che è docente di diritto costituzionale sì è delegato alla disabilità e all'endica presso la nostra università è inoltre delegato dal comune di Milano per le politiche sull'accessibilità è coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare ed è inoltre autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche in tema di diritti sociali e appunto di diritti delle persone con disabilità nonché diritto regionale e sulle fonti in generale quindi grazie molte lascio la parola a professore Arconzo grazie dottoressa Fiano grazie alla professoressa D'Amico oltre che a te per l'invito sono onorato di essere qui e sono anche un po' emozionato nel fare questa relazione la cui preparazione mi ha come dire ovviamente riportato all'abisso ogni volta che si toccano questi temi che si studiano io avevo già avuto modo di studiarli quando ho scritto la monografia in tema di diritti delle persone con disabilità di prendere in mano alcuni testi mi ha proposto di fronte all'abisso che queste situazioni hanno creato chi non è sano e degno di corpo e di spirito non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo del suo bambino qui lo Stato nazionale deve fornire un enorme lavoro educativo che un giorno apparirà quale un'opera grandiosa più grandiosa delle più vittoriose guerre della nostra epoca borghese lo Stato deve con l'educazione insegnare agli individui che l'essere malati e deboli non è una vergogna ma è solo una disgrazia meritevole di compassione e che delitto e vergogna è il disonorarsi e il dar prova di egoismo imponendo la malattia e la debolezza a creature innocenti sono parole tratte dal Mein Kampf 1925 che preconizzano la pagina più disumana che nel corso della storia hanno vissuto le persone con disabilità nella Germania nazista tra la fine del 1939 e il 1941 venne realizzato un vero e proprio programma di eliminazione delle persone con disabilità un programma che avrebbe costituito la prova sperimentale di quello che sarebbe stato di lì a breve il genocidio delle persone ebree ma andiamo con ordine credo che sia importante ricordare perché si tratta di cose che in realtà non sono ancora così tanto note nel luglio del 1933 viene approvata in Germania la legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie ereditarie è il primo passo qualunque persona affetta da una malattia ereditaria può essere resa incapace di procreare mediante un intervento chirurgico la sterilizzazione se l'esperienza della scienza medica dimostra che è altamente probabile che i suoi discendenti soffriranno di una qualche grave ereditarietà fisica o difetto psichico seguiva un elenco di malattie che potevano causare appunto questa soluzione chirurgica l'applicazione di tale legge portò alla sterilizzazione tra le 300.000 e le 400.000 persone venne organizzata una meticolosa struttura che affidava la decisione relativa ai singoli interventi ad appositi tribunali per le sanitarie ereditarie mentre i casi controversi erano demandati anche delle specifiche corte di appello furono inoltre predisposti in un archivio nazionale dei nominativi delle persone contare ereditarie e persino alcuni specifici istituti di ricerca universitaria di biologia ereditaria e di genere raziale nel settembre del 1935 al raduno di Norimberga Hitler afferma per la prima volta l'intenzione di eliminare i malati ritenuti incurabili ovvero coloro i cui handicap fisici e mentali rappresentavano una minaccia per l'immaginaria perfezione della cosiddetta razza ariana siamo nel 1937 per ordine di Hitler nelle 5300 sale cinematografiche tedesche viene proiettato un docufilm dal titolo Vittime del passato a un certo punto del documentario si parla dei cosiddetti malati ereditari e vengono trasmesse alcune immagini che vedrete nelle prossime slide negli ultimi decenni cito il passaggio del documentario testuale l'umanità ha peccato orribilmente contro la legge della selezione non solo abbiamo risparmiato vite indegne della vita ma abbiamo anche permesso loro di moltiplicarsi ecco i discendenti di questa generazione tarata grazie ai farmaci nei manicomi sopravvivono intere famiglie i costi necessari per curare i malati di questo gruppo di questo solo gruppo sono stati finora 154.000 marchi quante case per gente sane si sarebbero potute costruire con questa somma la propaganda non era però soltanto demandata ai film il discorso legato ai costi del mantenimento delle persone malate o con disabilità era oggetto di martellanti campagne l'aspetto economico utilitaristico giocò dunque un ruolo di primo piano la propaganda nazista prendendo spunto da argomentazioni che come dirò a breve pure erano state sviluppate in sede accademica non mancò di prodigarsi nell'evidenziare che ingenti risorse economiche venivano spese per curare persone che non potevano comunque guarire e che non erano comunque di alcuna utilità alla nazione il programma di eutanasia avrebbe quindi consentito cospicui risparmi per le casse statali vi ho fatto vedere alcune di queste immagini delle campagne pubblicitarie che venivano per l'appunto diffuse così preparata se si può dire in questo modo adeguatamente la popolazione nell'ottobre del 1939 Hitler firma un atto che attribuisce a due ufficiali nazisti il compito di ampliare i poteri dei medici che si sarebbero dovuti occupare del citato programma cito testualmente affinché agli ammalati che sulla base del giudizio umano dopo un'attenta valutazione della loro condizione di salute siano considerati incurabili possa essere concessa la morte pietosa si postava così dalla sterilizzazione al piano di eliminazione delle persone con disabilità giustificando tale scelta soprattutto per convincere coloro che poi avrebbero attivamente preso parte alle uccisioni di massa e che da costoro vennero effettivamente richiamate queste tesi durante il processo di Norimberga dicevo la tesi alla base di questo piano di eliminazione era quella legata alla volontà di liberare definitivamente i malati dalle loro sofferenze attraverso una caritatevole dolce morte e in effetti si legge in qualche testimonianza di un chimico tedesco del chimico tedesco che nel 1939 conduceva questi esperimenti la morte sopraggiungeva senza sofferenza senza panico senza che le vittime ne avessero in qualche modo sentore le espressioni stravolte e l'aspetto disumano dei malati di mente si trasformavano in maschere sorridenti nelle braccia della morte ma spietosa sappiamo che in realtà non fu proprio così in ogni caso alla base del programma eutanasia e alla base della propaganda di cui vi ho appena raccontato vienono autorevoli quanto oggi diremmo folli studi affacciatesi in Germania tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento in diversi ambiti accademici e scientifici la tesi era per l'appunto quella per cui era necessaria eliminare coloro che cito un saggio ai quei tempi noto di Karl Ludwig Binding Alfred Ocke il primo autorevole professore tedesco di diritto penale all'Ipsia il secondo psichiatra e anche egli docente universitario a Friburgo dicevo costoro sostenevano le tesi che occorresse eliminare coloro che erano vuoti gusci umani ed esistenze zavorra per la nazione coloro che vivevano vite indegne di essere vissute questi sono i riferimenti bibliografici c'è una recente traduzione di questo testo anche in italiano quindi le tese sui gusci vuoti e le zavorre trovavano terreno fertile in una nazione che invece necessitava di individui forti e di persone sane in grado di incrementare la forza della collettività nazionale collettività nazionale che sappiamo nell'ideologia nazista rappresentava un'entità superiore rispetto all'autonomia del singolo tesi che quindi riuscirono ad affermarsi in un ambiente in cui l'obiettivo della società era quella della realizzazione del progetto di rigenerazione razziale e il raggiungimento della purezza della razza ariana in alcuni recenti scritti anche in Italia Isabella Merzagola Marcella Ravenna si è sottolineato come i medici abbiano avuto una grande importanza gli operatori sanitari nell'attuare questo obiettivo nella prospettiva di un regime che si è definito in alcune ricerche come biocrazia in una relazione simbolica tra lo Stato e la classe medica a un livello tale da consentire a un regime di praticare la violenza attraverso gli stessi operatori sanitari che nel caso delle persone con disabilità erano coloro che dovevano azionare dovevano aprire i famosi rubinetti del gas torniamo al documento firmato da Hitler nel settembre del 39 con esso si diede formalmente avvio a quello che è passato alla storia come l'Action Tifier lo citava prima la collega Riva in realtà però secondo alcune ricerche già negli anni precedenti in numerosi istituti di cura e di assistenza tedeschi i decessi delle persone con disabilità erano nettamente aumentati rispetto agli anni precedenti detto altrimenti il programma di uccisioni programmati cominciato a livello centrale nell'estate del 39 si sarebbe in realtà ricollegato a pratiche già esistenti e non si può escludere che l'atto firmato da Hitler sia stato scritto anche per legittimare ex post tali pratiche Axion Tifier si diceva il nome del progetto deriva proprio dall'indirizzo la Tiergärtnerstrasse appunto al 4 a Berlino presso il quale dal 1940 trovarono sede gli uffici deputati alla gestione del programma di eliminazione delle persone con disabilità questo programma venne ideato approvato ed eseguito con meticolosa precisione e con accurata segretezza soprattutto nella prima fase dello stesso le ricerche storiche attestano che ci fu uno staff di oltre 300 persone che venne impiegato nelle varie fasi del programma per la realizzazione dello sterminio grazie ad alcune ricerche storiche Gozzali ha pubblicato nel 2017 anche in Italia con in Audi un volume Zavorre abbiamo la testimonianza di un medico sulle procedure che venivano seguite i medici che lavoravano negli istituti psichiatrici o negli istituti in cui erano ricoverati in cui vivevano le persone con disabilità dovevano innanzitutto esaminare le schede personali di ciascuno degli ospiti e silare gli elenchi di quanti ricoverati da più di 5 anni non lavoravano abbastanza per poter compensare le spese di sostentamento successivamente le persone selezionate venivano marchiate il loro nome veniva scritto sulla pelle della schiena inizialmente i nomi venivano scritti sui cerotti ma ci si rese conto nell'ambito dell'amministrazione di questo progetto che questi cerotti si staccavano e questo poteva determinare scambi di persone a questo punto venivano trasportati sul pullman sui pullman della società di pubblica utilità per il trasporto dei pazienti una società appositamente costituita lo viene ricordato nel libro di Michael Trezenza sul punto dall'amministrazione del programma e venivano trasportati per l'appunto in uno dei sei centri di morte che operarono tra il gennaio del 40 e l'agosto del 41 alcuni di questi centri di questi sei centri si misero di funzionare soltanto quando si erano svuotate si erano svuotati proprio a causa dell'uccisione che in questi centri veniva effettuata si erano svuotate gli istituti di mitrofe di stessi giunti nei centri di sterminio le persone venivano identificate e visitate al fine di ipotizzare una causa una causa plausibile per il decesso in alcuni casi rari ma si erano veramente poco numerosi all'esito della visita la persona poteva essere indicata tra quelle non destinata alla morte e poteva rientrare in una sede diversa nella stragrande maggioranza dei casi invece dopo la visita le persone venivano condotte nelle camere a gas camuffate dai locali adibiti a docce dove ignare venivano infine uccise soltanto in un secondo momento la macchina organizzativa ritenne opportuno prima di condurre le persone alla morte trasferire costoro dai centri in cui vivevano in ospedali cosiddetti intermedi l'obiettivo era quello di consentire la dimissione la restituzione nei radi casi in cui qualche parente si fosse interessato alla sorte del familiare in ogni caso dopo la constatazione dell'avvenuto decesso i cadaveri venivano destinati alla cremazione nei forni costruiti nei pressi delle camere a gas fu necessario in alcuni di questi centri adottare accorgimenti di natura tecnica per impedire che a causa delle alte temperature raggiunte dalle ciminiere dei forni sempre in funzione prendesse fuoco l'intero centro eviterò di raccontare particolari più drammatici che nulla aggiungono al terrore che già vi sto raccontando in ogni caso nei cimiteri si dice ben presto arrivarono all'improvvise seri e intere gli urne in ogni caso non mancava mai la comunicazione alla famiglia della morte della persona ovviamente provocata da cause naturali il regime come già vi accennavo si mosse con molta circospezione al fine di occultare gli obiettivi del programma tutto il personale coinvolto venne obbligato alla segretezza pena di morte l'opinione pubblica non doveva sapere nulla ovviamente la segretezza poter restare tale soltanto nei primi mesi delle operazioni quando i centri di sterminio presero ad operare a pieno regime fu chiaro a molti il significato dell'andare e venire degli autobus che partivano pieni e tornavano vuoti c'è una cosa che mi ha molto interessato che è molto curiosa se volete vedete da questa slide che ho trovato a colori si vede che i pulmani inizialmente erano rossi a un certo punto del programma quando insomma le cose erano diventate abbastanza evidenti si ritenne di dipingere questi autobus di grigio per provarli a mimetizzare all'interno del diciamo nei loro percorsi per non farsi accorgere fu un come dire uno strategema che servì a poco ma che rivela insomma è rivelatore alla fine dell'operazione che si fa risalire all'agosto del 1941 per ordine diretto di Hitler si canterà la morte per gasazione di circa 70.000 persone qualcuno in più persone con disabilità all'interno di questi centri appositamente realizzati per l'uccisione di massa di queste persone ma questi luoghi in alcuni di questi luoghi fino a tutto il 1943 questi luoghi continueranno ad essere utilizzati comunque per sterminare altri innocenti alcune osservazioni conclusive lo sterminio delle persone con disabilità durante il nazismo è stato per decenni pressoché è rimasto sconosciuto all'opinione pubblica soltanto a partire degli anni 80 del secolo scorso si sono svolte alcune e sono state pubblicate in Germania alcune prime pionieristiche ricerche mentre negli ultimi vent'anni queste ricerche si sono un pochino diffuse e hanno avuto una qualche eco anche in Italia si trovano appunto un paio di testi tradotti che sono quelli che ho utilizzato per poter raccontarvi questa svolgere questa relazione e mi chiedo quali sono le ragioni di questo lungo oblio leggendo alcune di queste ricerche di recente pubblicate emerge che nella maggioranza dei casi i familiari delle persone uccise nello sterminio erano sostanzialmente accondiscendenti con le scelte del regime l'importante vennero fatti dei sondaggi prima di iniziare questa attività l'importante vi dicevo era che dalla scelta della morte dei propri familiari gli stessi parenti non venissero in qualche modo accusati e a riprova di ciò ci sarebbe un dato inequivocabile le poche persone che con disabilità che si salvarono furono quelle che pur rinchiuse e in istituti o in manicomi ricevevano costanti visite dei familiari lo accennavo prima e ancora un ulteriore dato interessante sta nel fatto che questo interesse recente sarebbe in qualche modo collegato alla naturale in questo caso morte dei familiari diretti dei discendenti diretti di coloro che vennero uccisi durante il programma soltanto i familiari di seconda generazione si sono interessati alla sorte dei loro lontani discendenti insomma è come se chi ha vissuto se chi avesse vissuto quel dramma non abbia mai avuto la volontà alcuna volontà di indagare su quanto effettivamente è accaduto insomma si è avanzata la tesi che si sia stati di fronti per decenni ad una vera e propria rimozione collettiva di quanto accaduto da collegarsi probabilmente ad una sorta di tacita e indicibile condivisione del programma di sterminio stesso di fronte a ciò mi pare che il compito di ricordare e diffondere quanto accaduto si faccia sempre più impellente ancora più impellente mi permetto di rivolgere un invito a voi che avete ascoltato questa relazione non lasciate che quanto raccontato si perda tra le tante preoccupazioni e molti pensieri diffondete queste sono cose da diffondere ma non soltanto per far sì ovviamente che un nuovo sterminio non si possa mai più verificare ma perché soltanto parlando della vita delle persone con disabilità delle persone con disabilità che spesso come dire teniamo a nascondere a non far vedere che ancora oggi sono rivestite in una sorta di stigma di culturale di vergogna ecco dicevo soltanto parlando di queste vite riusciremo a far nostra e ad aiutare la nostra società ad acquisire la consapevolezza che ogni persona ogni singola persona indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche è cittadino a pieno titolo del mondo in cui viviamo vi ringrazio grazie grazie davvero al professor L'Arconzo per averci parlato di questo oblio nell'oblio terrificante davvero impressionante e ancora una volta quindi abbiamo sentito parlare di discriminazioni nelle discriminazioni quindi è importante sempre più parlarne appunto come si diceva e adesso ho il piacere di presentare la professoressa Continisio docente di storia delle dottrine politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Quale di Milano si occupa di comunicazione di insegnamento della storia in particolare di narrazione ha inoltre fondato e dirige insieme al professor Colombo la rassegna storia e narrazione è membro della direzione della rivista storia del pensiero politico del comitato editoriale della rivista il pensiero politico e si occupa prevalentemente di teorie politiche ha studiato il dibattito sulla ragione di stato sulle virtù politiche grazie moltissimo per essere qui con noi e le cedo la parola eccoci buongiorno grazie sono naturalmente desiderosa di incominciare ringraziando per questo invito che mi è giunto in un momento molto particolare e Giuliana Bendelli sa di tutte le coincidenze che hanno diciamo così favorito questo invito di cui vi ringrazio tra l'altro avevo preparato una relazione ma adesso che ho sentito queste mi vengono in mente tante di quelle cose su questo libro in particolare che forse ne faccio un'altra ma adesso vediamo dove andiamo a parare intanto direi che la memorialistica originata dalle condizioni di vita terribili imposte dai regimi totalitari alle popolazioni ha restituito negli anni un panorama terrificante di violazione dei diritti umani ai danni di qualsiasi categoria di individui ritenuta per così dire colpevole di non conformità nemici politici ebrei zingari omosessuali portatori di malattie fisiche e mentali appartenenti a etnie o gruppe religiosi altri e certamente ne sto dimenticando qualcuna tutti oggetto di trattamenti che naturalmente definire discriminatori è poco più che un eufemismo e si avvicina molto molto blandamente alla realtà niente naturalmente che la storiografia non avesse già chiarito ma le memorie non sono come i libri di storia che si studiano a scuola o all'università anche se vi possono e vi dovrebbero figurare le memorie non sono come i libri di storia le memorie incorporano diciamo elementi preziosissimi per cui devono diventare non che sia diciamo così già così ma lo devono diventare ancora di più fonte per chi quei manuali e quei libri di storia scrive intanto incorporano una ricerca di senso a cui spessissimo proprio la narrazione dà ordine e dà forma e che spesso viene trasformata in un dono da chi ricorda e da chi scrive un dono per chi legge per chi ascolta un dono anche per le generazioni future non dobbiamo dimenticarci la domanda che proprio sull'ultimo numero di vita e pensiero Anna Foa affronta cosa resta della Shoah senza i sopravvissuti cioè senza le testimonianze di prima mano che possono essere raccontate restano tante tante cose e restano anche le memorie scritte questi memoir queste testimonianze dice Anna Foa resta la storia che si deve cominciare a fare anche trasformando queste memorie in fonti per la storiografia poi le memorie contengono certamente una carica diciamo così emotiva che facilita il racconto la comprensione l'uso emotiva Anna Foa proprio e anche questa è una coincidenza perché l'ho proprio letto ieri questo articolo mentre appunto la mia relazione era pronta già da qualche giorno una carica emotiva catartica dice Anna Foa che aiuta ci sono anche qui delle ricerche scientifiche che hanno ormai chiarito quanto i canali emozionali devono essere stimolati e possono essere stimolati per l'apprendimento e poi le memorie sono spesso anche ricche di documenti di ricerche storiche per cui tutto questo insieme di nozioni mi rende particolarmente lieta di parlare oggi credo per la prima volta in Italia di questo libro che si chiama Life in Ten Chapters di Marika Arban perché è un libro di cui è un libro con una storia particolare intanto Marika Arban non è una scrittrice professionista mi sono dimenticata una cosa chiedo alla dottoressa Fiano di tenere d'occhio il tempo che io non sono bravissima in queste cose e di interrompermi brutalmente non è una scrittrice professionista non è una storica professionista anche se su questo libro poi diremo alcune cose poche cose dato appunto il tempo limitato la scrittura di questo libro che lei stessa definisce un memoir è mossa da un'esigenza direi privata ancora più che personale è una ricerca appunto di una spiegazione di un senso il libro infatti è dedicato ai suoi figli sto citando dalla brevissima premessa il libro per aiutarli a risolvere i misteri del passato è dedicato agli amici e alle amiche che l'hanno sempre sostenuta mostrando le gentilezze e affetto e per questo scopo immagino che quella stampa in forma direi privata autofinanziata dall'autrice stessa di pochissime copie che hanno quindi dato a questo libro scritto in inglese negli anni dieci di questo secolo una circolazione molto ristretta di cui sono venuta a conoscenza per un'altra serie di fortunate coincidenze un beato chi ci crede alle coincidenze una delle quali coincidenza è seduta in sala hanno dato a questo libro una circolazione molto limitata che forse per questa esigenza privata poteva bastare però in quella stessa breve premessa Marie Carbone scrive anche che il libro è per i lettori interessati alle vite degli altri cioè il libro è stato pensato anche per un pubblico più vasto che spero si formerà anche grazie alla pare imminente traduzione in italiano per un editore italiano Marie Carbone racconta la propria storia dai suoi primi ricordi di bambina al principio degli anni 50 proprio all'inizio degli anni 50 fino al definitivo trasferimento in Canada perché gran parte di questa storia è ambientata in cecoslovacchia definitivo trasferimento in Canada avvenuto nel 1982 ma la storia con la S maiuscola non è per niente assente in questo libro anzi Arban stessa dice ho scritto questo memoir cercando di intrecciare i destini personali con gli sviluppi politici per mostrare come gli sviluppi politici hanno riguardato le nostre vite e non è per caso che questo libro sia anche pieno e spero che nella traduzione vengano conservate di foto di foto degli album di famiglia ma anche di documenti di pagine di giornale che sono quella parte documentaria Arban diverse volte nel libro dice ho fatto ricerca su questo sono andata negli archivi della Shoah sono andata nella biblioteca per recuperare i giornali dell'epoca ecco perché dicevo le memorie spesso sono fonti proprio per gli storici anche la discriminazione la discriminazione nella famiglia di Mare Carban ha assunto vesti diverse ed è ovviamente uno dei fili più robusti di questo memoir il libro si apre con un sentimento di accorata tenerezza per la se stessa di allora cioè per quella bambina di tre anni con il viso pieno di lentigini e i capelli rossofiamma che nella Slovacchia dei primi anni 50 già sapeva che cos'era la paura e prosegue poi proprio con la considerazione di tutto ciò che poteva gettare su ciascuno lo stigma della diversità e quindi essere motivo di accuse anche gravissime traduco abbraccio quindi ci metto forse un pochino essere andare a scuola fino oltre le elementari essere ebrei non bere fino allo stordimento tutte le sere tutti tutti questi aspetti erano ugualmente sospetti e sovversivi nelle città le vittime della persecuzione erano in primo luogo gli intellettuali quelli che apertamente o meno rifiutavano di essere complici della sovietizzazione del paese nella piccola nella piccola città slovacca di Slate Moravce dove i miei genitori si erano sistemati dopo essere sopravvissuti alla Shoah all'olocausto dice lei era sufficiente possedere più forchette dei propri vicini di casa per essere accusati di sabotaggio economico inoltre se osavi accendere un candelabro in memoria dei 36 membri della tua famiglia che erano tutti morti nei campi potevi anche essere accusato di essere un sionista borghese borghese scusatemi e traditore diciamo una ampia diciamo catalogo di colpe Marika quindi è ebrea figlia di ebrei scampati ad Auschwitz Magda che con sua madre con la sua propria madre Shari e la sua propria zia Irene erano le uniche tre rimaste di quella famiglia di 39 persone che nell'agosto del 44 viene deportata interamente ad Auschwitz e poi Imre Reitman Magda e c'è un capitolo naturalmente dedicato alla storia della sua famiglia e della detenzione e della morte della famiglia ad Auschwitz un capitolo che Marika ricostruisce in seguito da adulta perché né il padre né la madre volerò mai davvero parlarle di questo era stata soprattutto sua nonna Shari meno diciamo a trasmettere questa memoria alla nipote costringendola però costringendola spingendola però a integrare questa reticenza e quindi i dati che lei aveva imparato appreso da questi racconti le esperienze con appunto delle ricerche d'archivio delle ricerche personali i suoi genitori si sposano nel 46 quindi subito dopo e provano subito dopo la fine dell'esperienza del campo di concentramento e provano ovviamente ad avere una vita normale Marika lo scrive più volte erano dei sopravvissuti tutto quello che volevano erano una vita normale Marika nasce nel 48 siamo appunto in Slovacchia ed è perciò già figlia del nemico perché è ebrea figlia di ebrei in un'Europa certamente non immunizzata dall'antisemitismo e diventa due volte figlia del nemico quando tra il gennaio e il febbraio del 51 suo padre viene arrestato è il momento molto noto questo quindi non mi dilungo in cui ormai il colpo di stato del febbraio del 48 ha instaurato un regime comunista anche in cerco Slovacchia che aveva immediatamente spento le illusioni diciamo che molti si erano fatti anche all'interno del partito comunista pochi all'interno del partito comunista di un socialismo dal volto umano e quindi non diciamo soffocato dalle direttive sovietiche che invece molto presto arrivano e sovietizzano oltre che le istituzioni politiche anche la società e l'intero paese tra il 49 e il 56 in cecoslovacchia è l'epoca dei grandi processi farsa per liberarsi di un'intera classe politica ovviamente processi politici diciamo combinati con l'accusa di vaga e quindi pericolosissima di atti contro il comunismo di stato famosissimo il caso Slansky proprio del segretario del partito comunista cecoslovacco fautore di questa sovietizzazione e poi nemico dello stato lo cito il processo Slansky perché per tanti motivi primo perché aveva una fortissima carica antisemita dei 14 accusati di questo processo 11 erano ebrei quindi appunto dicevo è esatto Slansky stesso quindi mai immunizzati dall'antisemitismo perché è al centro di un altro libro di memoria che mi sembra un po' sfuggito all'attenzione invece un libro bellissimo quello di Eda Margolio Scovali che si chiama Nata sotto una stella crudele due volte diciamo violata la sua vita da due totalitarismi diversi prima Hitler perché ebrea poi il comunismo sovietico il comunismo cecoslovacco soffocato dalle direttive di Mosca ma lo cito soprattutto perché anche il padre di Marika viene arrestato con l'accusa di aver collaborato con Slansky e quindi con l'accusa di essere un traditore naturalmente lo drogano lo torturano gli infliggono una prigionia pesantissima che dura due anni in realtà non arriverà mai al processo verrà poi rilasciato senza aver ottenuto alcuna testimonianza il che beffa dopo il danno non gli darà nemmeno il diritto di ottenere dei risarcimenti quando poi alla fine di questa molti anni dopo a dire il vero la fine di questa orribile stagione la cecoslovacchia accettò insomma di valutare i singoli casi per risarcirne alcuni perché lui non era mai stato condannato era semplicemente stato accusato e detenuto ripeto per due anni naturalmente nessuna confessione venne storta e allora le accuse cambiarono continuamente sarebbero anche accuse diciamo così ci sarebbe da ridere sulla qualità di queste accuse se invece non fossero state capaci di arrivare a una condanna anche a morte e Marika scrive di queste fantasiose accuse ma insomma dal giorno dell'arresto del padre ovviamente le conseguenze di questo status particolare su cui ammetto di non avere mai riflettuto di figlia del nemico si fanno tangibili la vita sua e del suo piccolissimo nucleo familiare viene stravolta perquisizioni notturne sequestri le requisiscono un pezzo della casa la sua cameretta e quindi il suo mondo di bambina lei ha tre anni nel 1951 strane che in casa spadroneggiano dalla mattina alla sera e poi naturalmente quella che lei chiama la cerimonia del sabato tutti i sabati mattina la stessa cerimonia sua madre la portava in giro per le carceri attorno alla sua città con lo stesso copione da recitare cercavano il padre di cui non si avevano tracce e il copione era presentarsi con un cesto pieno di ogni ben di Dio in modo da diciamo corrompere l'attenzione dei funzionari del carcere cercare di capire se Imre fosse detenuto in quel carcere la risposta era sempre la stessa il cesto veniva sempre molto volentieri requisito subito e spariva ma Imre non c'era mai ma il copione non era finito perché allontanandosi poi dal carcere a lei spettava una piccola parte la parte che spettava la piccola Marika era quella di raccogliere qualsiasi cosa per terra e di mettersi a urlare ehi guarda cosa ho trovato papà guarda cosa ho trovato Apo perché lei lo chiamava così in casa si chiamava così sperando che Apo potesse sentire dalle finestre e quindi finalmente rivelare dove era stato rinchiuso cosa che finalmente accade anche se poi naturalmente ora che lo rilasceranno passeranno ancora diversi mesi viene arrestata anche sua madre che però viene poi rilasciata dopo pochi giorni è una storia di cui ci sono tanti dettagli in questo libro purtroppo ahimè credo che il tempo scorra mi faccia mi raccomando un cenno per cui della storia dell'arresto di sua madre ok Marika dice che in questa atmosfera di insicurezza di paura di terrore di continua finzione di nascondimento aveva perfettamente introiettato già a tre anni il concetto dell'io diviso il divided self c'erano cose che si potevano dire a casa e cose che non si dovevano dire fuori casa e saperle distinguere e comportarsi di conseguenza era di vitale importanza e poi c'erano questi genitori prima sopravvissuti ad Auschwitz e poi il padre viene rilasciato come vi dicevo profondamente cambiati dall'esperienza della prigionia dell'accusa di comunismo di stato quasi irriconoscibili Marika scrive più volte la freddezza emotiva di sua madre l'indebolimento fisico ma anche psichico di suo padre sono qualcosa con cui Marika fece poi sempre i conti da bambina da adolescente da giovane e anche da adulta lo stigma fece i conti senza poterlo capire perché essere figlie del nemico è una condizione senza colpa evidente non che essere ebrei sia una condizione di colpa ma o appunto avere malattie fisiche o mentali sia una condizione di colpa senza poterlo capire ma dovendoci fare i conti e lei con questi genitori fece dei conti molto molto pesanti nella sua vita soprattutto con le conseguenze emotive della devastazione operata dalla storia con la S maiuscola sui propri genitori Marika scrive di aver chiesto a sua madre ormai ambedue adulte anzi sua madre piuttosto anziana in Canada al sicuro da molto tempo se la maternità fosse stata per lei un'esperienza pagante e lei senza esitazioni aveva fatto no con la testa mai prima di allora avevamo espresso i nostri sentimenti allora approfittai di quel fugace momento per chiederle se avessi mai provato amore per qualcuno di quelli che le erano vicini ma lei fece di nuovo no con la testa Enemy's Daughter appunto da dove ho preso questo titolo per questa relazione dal libro di Marika che proprio nel centro non so se è un caso nel centro di questo libro all'inizio del capitolo 6 cita le parole di un post credo che si chiamino così pubblicato sul sito appunto di questa organizzazione non governativa ciocoslovacca che si chiama Enemy's Daughters le parole della presidente e della fondatrice che si possono leggere proprio nel sito enemiesdaughter.com dice uno dei modi per esplorare gli effetti dello stalinismo del regime stalinista di terrore è di ascoltare le storie delle donne ciocoslovacche che hanno avuto il ruolo davvero unico di essere figlie del cosiddetto nemico di stato essere figlie di un prigioniero politico durante il regime comunista in ciocoslovacca ha significato essere ostracizzati tutto sommato le famiglie dei prigionieri politici erano considerate non degne di coesistere con il resto della società le pochissime ricerche sui figli e le figlie dei prigionieri politici mostrano che le conseguenze emotive della prigionia furono molto più grandi che non quelle dell'imprigionamento dei parenti stessi gli effetti sulle relazioni familiari e i vari effetti sulle relazioni familiari si manifestarono per le generazioni a venire in questo libro qui ho capito che questa categoria delle figlie del nemico è un tema che forse gli storici non hanno ancora sufficientemente affrontato ma che evidentemente fornisce ha fornito a Maric Arban nella scrittura di questo memoir che non è un romanzo credo di averlo già detto una delle chiavi di lettura forse quella chiave di senso che Arban cercava scrivendo naturalmente non ho un minuto Annanerell perché c'è una storia bellissima che purtroppo non ho raccontato io ma ho imparato anch'io da Adriana Cavarero che ha scritto un libro straordinario sulla narrazione e sulla memoria un libro che si chiama Tu che mi guardi tu che mi racconti è una storia che che Cavarero riprende da Karen Blixen forse la conoscete una storia abbastanza famosa che dice un uomo che viveva presso uno stagno una notte fu svegliato da un grande rumore uscì nel buio si diresse verso lo stagno però era troppo buio comincia a correre a destra e a sinistra in su e in giù poi finalmente si accorge di questa falla che nell'argine dello stagno faceva uscire tutto quanto e allora si dà da fare ripara lo stagno e esausto torna nella sua casa va a dormire e il mattino dopo si affaccia alla finestra e si rende conto che i suoi passi nel buio avevano tracciato il disegno di una cecogna la storia a cosa serve Adriana Cavarero dice che il significato del racconto sta in questo semplice risultare che non consegue ad un progetto nell'unità figurale del disegno cioè il disegno non i tratti confusi ma l'unità del disegno non è quello che guida il percorso di una vita ma è ciò che la vita si lascia dietro senza poterlo mai prevedere neanche immaginare la cecogna si vede solo alla fine quando chi l'ha tracciata con la sua vita o altri spettatori guardando dall'alto vedono le orme lasciate sul terreno ecco gli altri spettatori siamo noi siamo noi che leggiamo le memorie siamo noi che leggiamo il libro di Marica spero tanti un libro che Marica ha scritto per fare chiarezza per sé per i figli per gli amici ma anche per quelli che alle storie si interessano noi che siamo i destinatari del dono di Marica e che lo ricambiamo ascoltandone ascoltandolo e cogliendone il disegno ancora Cavarero scrive come dice Karen Blixen tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi perché come dice Anna Arendt più volte citata questa mattina la storia con la S minuscola la storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi grazie 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 davvero sì 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 grazie ho sentito le ultime le ultime le ultime le ultime le ultime di questo di questa bellissima relazione della della professoressa Continisio la ringrazio veramente tanto mi sembra davvero che questa mattina come c'eravamo ripromessi ci stia aprendo diciamo degli sguardi e delle consapevolezze molto importanti e infatti contiamo anche poi sul vostro apporto scritto in cui io riuscirò a riprendermi dagli interventi e anche del professor Arconzo che mi scusi non avrei potuto sentire ora è con grande gioia che do la parola al professor Marco Cuzzi che è uno dei professori che più diciamo nel nostro Ateneo si impegna da sempre sia scientificamente ma anche a livello proprio di quello che noi chiamiamo la terza missione su queste tematiche docente di storia contemporanea membro del centro ebraico del CEDEC e del centro italiano di studi sulla massoneria di Torino ed è responsabile dell'unità milanese della rete universitaria per la giornata della memoria direttore della collana storia politica società storia politica società si occupa di storia del fascismo e del neofascismo sia in ambito italiano che internazionale il professor Cuzzi ci parlerà oggi di discriminazione e persecuzione dei massoni nell'Europa nazista grazie 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 dell'invito e della possibilità appunto di dire due parole su questo tema che è un altro dei temi un po' obliati poco noti partendo anche dal fatto che in Italia in modo particolare insomma gli scandali del passato pensiamo alla P2 o anche le recenti vicende forse anche diciamo molto generalizzanti e generalizzate secondo il principio del falsus in unum falsus in omnibus hanno portato al tema della massoneria ragionamenti sulla massonia e lo ruolo della massoniera del passato ad essere un pochino messo da parte in realtà all'estero le cose non stanno così né in Francia né in Germania né in Gran Bretagna né in altri paesi penso anche al Belgio per esempio alla Norvegia le università hanno abbandonato questo tema anzi ne hanno approfittato proprio per approfondire il ruolo delle singole obbedienze massoniche nel periodo dei totalitarismi e della persecuzione durante la seconda guerra mondiale in Italia dobbiamo forse ancora fare qualche passo in più ci sono ovviamente luminose eccezioni da Marco Novarino a Santi Fedele a Fulvio Conti che si sono occupati del tema io cercherò di parlare di raccontare questa piccola storia ma i numeri non contano credo che è quella appunto delle persecuzioni dei liberi muratori nel periodo interbellico della seconda guerra mondiale allora per quanto riguarda l'Italia non vorrei soffermarmi troppo perché vorrei parlare più del sistema del sistema persecutorio nazista va detto naturalmente che non solo in Italia ma principalmente in Italia la questione della massoneria è una questione anche un po' ambigua nella fase iniziale le o due principali obbedienze massoniche per andare molto veloci cioè l'obbedienza di Palazzo Giustiniani ovvero se è il grande l'Italia e quella di Piazza del Gesù la gran logia d'Italia hanno inizialmente un atteggiamento piuttosto non dico ambigo ma dire addirittura connivente col fascismo cadendo nella stessa trappola in cui cade lo Stato liberale cioè credere una parte di esso in cui credere cioè che il movimento sia addirittura una sorta di estensione del movimento risorgimentale o addirittura un'antemurale contro la rivoluzione prevista presunta e ipotetica oppure addirittura un strumento per rafforzare lo Stato stesso e le istituzioni nate dall'Unità d'Italia ecco tutto questo chiaramente viene immediatamente come dire smentito da un Mussolini che sveglierà in qualche modo i massoni italiani o almeno parte di essi sin dal 23 con appunto l'introduzione di una legislazione sempre più autoritaria l'apertura di un canale preferenziale con i nemici giurati della massoneria cioè la Chiesa e il Vaticano e soprattutto l'inizio di una persecuzione reale in questo senso sì in questo senso si può dire che sin dal 1923 in Italia assistiamo a una reale un'iniziale persecuzione quindi si registrano assalti di squadristi alle loge massoniche in varie città Torino Firenze però abbiamo una massoniera di 25.000 iscritti riguardo il GOI e qualche migliaio riguardo l'altra obbedienza comunque Torino Firenze Prato Luca Termoli San Severo Vivo Valenza vengono assaltate dagli squadristi dopo la decisione del maestro Torigiani di schierarsi a favore della secessione aventignana e cogliamoci che in Aventino due importanti esponenti erano massoni cutizzanti di alti gradi cioè Giovanni Amendola e Colonna di Cesarò e con questa decisione si scatena un vero e proprio pogrom contro la massoneria che degenera soprattutto nella zona toscana e Umbra in una serie di assalti con parecchi morti tra i massoni che vengono appunto individuati dai fascisti da quel momento poi si giunge nel novembre del 25 alla proclamazione di quella legge contro le associazioni segrete si intitola regolarizzazione dell'attività delle associazioni e della pertenenza alle medesime del personale dipendente dallo Stato da quel momento i funzionari pubblici che si scoppano essere iscritti alla massoneria sono destituiti rimossi dal grado dall'impiedo e comunque licenziati inizia una persecuzione che durerà in seguito l'opera la polizia politica schederà tutti i massoni d'Italia verranno seguiti si teme in parte anche a ragione che le logge clandestine siano i primi luoghi soprattutto nei piccoli centi di raccolta dell'opposizione antifascista soprattutto dopo lo scoppio della guerra di Spagna assistiamo a una recrudescenza di questa persecuzione che giunge nel 38 uguale a caso proprio coincidente con le leggi razziste a tornare a essere d'attualità la massoneria è considerata di fatto lo strumento principale di quella sinarchia ebraica che sta a livello internazionale sta strangolando le azioni dell'Italia l'iniziativa dell'Italia fascista una sorta di complotto giudaico massonico che viene evocato nel 38 ora da quel momento inizia una campagna persecutoria nei confronti dei massoni residui ma soprattutto l'inizio della fase più spiccatamente propagandistica contro la massoneria le cose le lasciamo temporaneamente lì anche se dovremmo ricordare che la fase finale del fascismo dal 43 al 45 ancora la Repubblica Sociale vede un'ulteriore recrudescenza del fenomeno per esempio questa è una divertente vignetta del travaso che un po' era un giornale pur essendo attolerato dal regime cercava di ridicolizzare certe scelte in qualche modo ecco qui c'è uno che vede un trame dice arrestate quel 33 ovviamente in riferimento al più alto grado del rito scozzese era un po' un modo per inoronizzare in realtà le cose stanno un po' in modo un po' diverso c'è poco da ironizzare soprattutto a Salò la propaganda antimassonica è scatenata non soltanto in termini di manifesti il bambino che viene colpito viene minacciato da una mano che rappresenta il comunismo internazionale in alto a destra dall'altra parte il giudaismo con la stella di Davide non dimentichiamoci che i simboli ebraici sono sovente utilizzati nelle ritualità massoniche dalla chiave di Salomone la stella di Davide la menorah la stessa leggenda di Hiram e della distruzione del Tempio in fondo a sinistra ovviamente squadra e compasso ecco quindi il complotto giudaico bolscevico e massonico che strangola l'Italia la nuova Italia repubblicana e fascista che guarda caso il Mussolini del lirico definirà come un antemurale finale contro un complotto iniziato per colpa della massoneria il 25 luglio del 43 se la situazione in Italia è questa vediamo rapidamente la Germania tema poco noto poco affrontato ma importante in Germania la situazione sin dal dopo guerra dal primo dopo guerra è un po' diversa da quella italiana esiste in Germania una struttura massonica articolata in otto diverse obbedienze poi diventeranno dieci nel corso degli anni venti divise separate fra di loro praticamente più o meno coincidente con i Lender in cui è già suddivisa la Repubblica di Weimar ognuna di queste obbedienze ha delle posizioni differenti ma potremmo dire che tendenzialmente abbiamo due famiglie da un lato c'è una massoneria ispirata ai principi della rivoluzione francese ispirata cioè al sacro trinomio legata a un concetto cosmopolita e direi addirittura eurofederalista una massoneria che definiremo in qualche modo democratica contrapposta alle cosiddette massonerie nazional cristiane o völkisch che invece sono legate alla tradizione guglielmina anzi federiciana perché poi Federico di Prussia era massone nel diciottesimo secolo ed è una massoneria ultraconservatrice quando si definisce nazional cristiana lo definisce anche da un punto di vista quasi razziale tant'è che mentre le massonerie democratiche accolgono gli ebrei e sono parecchi gli ebrei tedeschi che entrano nella massoneria non dimentichiamoci che la massoneria tedesca tutte le obbedienze messe insieme era la terza massoneria più importante d'Europa dopo quella inglese e quella francese 52.000 iscritti o meglio iniziati bene mentre la massoneria democratica accoglie gli ebrei quelle nazional cristiane tendenzialmente del nord prussiane tant'è che vengono chiamate anche alt preussische gross dogen cioè antico gallia d'oggi antico prussiane ebbene costoro non accettano gli ebrei questa posizione poi si rivelerà ancora più da sottolineare per quanto riguarda il rapporto con la repubblica le democratiche sostengono la repubblica a loro interno cominciano a entrare anche esponenti dei due principali partiti con la maggiore concentrazione massonica in germania la ddp la deutsche democratice partage cioè il partito liberale di sinistra e la socialdemocrazia dall'altra parte invece la repubblica non è accettata dalle logge nazionali cristiane questo cosa significa significa che in realtà la massoneria tedesca ha una minoranza che segue i dettami della repubblica di Weimar è una maggioranza che non lo fa il 70% dei massoni stanno con i nazionali cristiani il resto il 30% circa 20.000 con i democratici questa posizione si rivelerà fondamentale soprattutto negli anni successivi la presa di potere di Hitler e si sono già formati alcuni leader della massoneria democratica antinazista principalmente forse personaggi più importanti sono Leo Miffelman che diventerà gran maestro di una loggia cosiddetta gran loggia simbolica di Germania nata nel 1930 assolutamente antifascista e democratica anzi sarà lo stesso Miffelman a dichiarare ufficialmente il rischio a denunciare il rischio di una trasformazione di un colpo di stato fascista lo definirà così in Germania nel 1930 un altro personaggio importante martire perché poi verrà strangolato a Ploetzense nel 1945 dopo aver partecipato alla congiura del 20 luglio e il leader socialdemocratico Julius Leber anche lui alto grande personaggio cioè alto dignitario della massoneria simbolica cioè democratica tedesca candidato a essere ministro degli interni durante appunto le fasi preparatorie dell'operazione Valkyrie e appunto trucidato insieme ad altri esponenti massoni nel carcere di Berlino ecco la Germania nazista quando sarà al potere ovviamente il regime quando nasce il regime il regime nazionalsocialista dopo il 30 giugno dopo il 30 gennaio 1933 inaugura una persecuzione scioglie tutte le obbedienze anche quelle nazionalcristiane che tenteranno in tutti i modi di convivere con il regime nel 1935 tutta la massoneria viene eliminata per ordine tra l'altro di Goering ma la cosa interessante è che la legislazione è una legislazione che si ispira a quella fascista italiana di dieci anni prima guardate bene c'è quasi un piccolo potremmo definirlo un filo nero che unisce tutto questo l'Italia inventa una legislazione antimassonica la Germania la copia nel 35 la Germania nazista attraverso questa legislazione si producono i primi uffici di persecuzione organizzata che andranno poi a occuparsi anche della questione ebraica l'SD il Sicherheitsdienst voluto da Himmler nel 1935 1935 scusate 1934 sarà un servizio di sicurezza dell'SS che si occuperà inizialmente proprio della schedatura degli oppositori tra cui gli massoni in seguito come sappiamo l'SD diventerà un principale strumento del Reich Sicherheitsautampt cioè dell'alta autorità per la sicurezza del Reich nata nel 1939 l'alta autorità che sovraintederà la soluzione finale ancora l'ispirazione fascista italiana arriverà persino a Francisco Franco che nel 1940 produrrà una legislazione antimassonica tra le più estreme che ci possano essere nel periodo tenete conto che secondo uno storico spagnolo Franco considera i massoni alla stessa stregua con cui Hitler considera gli ebrei durante la guerra civile sono 2000 i massoni che vengono passati per le armi immediatamente appena le truppe franchiste entrano nelle città e ci saranno circa 6.000 massoni dal 40 al 52 che verranno condannati appena fino a 30 anni di galera molti di quali verranno uccise anche in carcere c'è un memoriale a in Spagna due o tre memoriali sparsi in Spagna sul ricordo di questo altro piccolo olocausto quindi un legame un filo nero che va avanti e arriva fino fino all'occupazione dell'Europa ci sono alcuni esempi che ci dimostrano come la persecuzione della massoneria in certi paesi occupati dai tedeschi non sia altro che il contraltare della persecuzione antisemita antiebraica un esempio di questo potrebbe essere un film che viene prodotto da un ex massone a Parigi Marché Rivière si chiamava il quale dopo aver abbandonato negli anni trenta la massoneria esattamente la gran loggia nazionale di Francia era entrato in un gruppo diciamo di estrema destra ultra tradizionalista cattolica e nel quaranta era finito a Vichy costui diventa un si occupa di regia si occupa di produzione cinematografiche e nel 1943 con circa un milione e cinquecento mila franchis stanziati dalla Gestapo produrrà l'unico film antimassonico della storia del cinema e di altro unico film totalmente antimassonico concentrato sulla lotta della massoneria forse occulti infatti è la storia di un deputato cattolico francese faccio una premessa il governo di Vichy e la collaborazione che avvenne a Parigi nella zona settentrionale vedeva nella terza repubblica il principale nemico la contronarrazione che questo collaborazionismo fece del passato francese prevedeva una condanna assoluta della terza repubblica intesa come un diciamo un prodotto della congiura giudaico massonica che aveva strangolato la grande Francia dell'epoca passata bene il deputato cattolico si batte contro la volontà del Parlamento dell'Assemblea Nazionale di entrare in guerra contro la Germania e si scopre poi che dietro questo Parlamento in realtà c'era la massoneria francese che non vedeva l'ora di scatenare la guerra viene coinvolto viene come dire iniziato la massoneria perché cade in una trappola guardate bene tutti i massoni presenti nel film hanno tratti visibilmente richiamantisi la vulgata del periodo quindi i soliti nasi adunchi altre diciamo immagini del cliché antisemita quindi sono tutti ebrei ebbene scoprendo poi l'imbroglio scoprendo ciò che effettivamente la massoneria sta facendo cioè distruggere la Francia si ribella ma viene ferito gravemente da dei gangster arruolati dal maestro venerabile alla fine del film mentre scoppia la guerra e lui si dispera un ragno gigantesco una tarantola con sopra la squadra del compasso appare sopra il pianeta terra è l'inizio della catastrofe un film che ebbe un successo straordinario così come straordinaria fu anche l'esposizione antimassonica sempre a Parigi del 42 mentre in Francia avviene questa cosa questa serie di come dire questa produzione soprattutto verso la fine questo è un'altra produzione sempre di Marchi Rivieri i document massonics sono di fatto la raccolta di tutto materiale massonico per dimostrare attraverso una serie di una rivista che durerà fino a poco prima lo sbarco in Normandia per dimostrare soprattutto quanto la massoneria e l'ebraismo siano praticamente le due facce della stessa medaglia mentre questo avviene in Francia anche nella Serbia di Milan Nedic cioè nello stato serbo occupato dai nazisti assistiamo a una forse a una campagna antimassonica ancora più accesa al punto tale che non solo si organizza una delle mostre antimassoniche e antisemite tra le più imponenti dell'Europa occupata a Belgrado tra il 1941 e il 1942 dove vengono esposti non soltanto tutti i paramenti massonici della potente massoniera di Ugozava ovviamente disciolta ma anche molti documenti che attestano dovrebbero attestare il complotto che ha portato al crollo del governo il 27 marzo 1941 con il colpo di stato poi interrotto dall'avanzata delle truppe naziste viste come liberatrici dal morso giudaico-massonico notate questi manifesti questi francoboli unico unica serie di francoboli di antimassonici nella storia filatelica come vedete abbiamo un massone con clamide e stella di Davide che viene accecato dalla croce del Kosovo simbolo del nazionalismo serbo un contadino serbo che abbatte le colonne di un tempio massonico e via discorrendo ora per andare verso la conclusione dire così parlare di persecuzione parlare di propaganda che si contrappone alla massoria non ci esula anche da ricordare ciò che capitò ai massoni dal punto di vista dell'olocausto certo parlare di olocausto massonico sarebbe anche sbagliato teniamo conto che ci sono stati massoni che sono finiti nei lager non in quanto massoni ma diciamo era forse un aggravante ma in quanto oppositori politici oppure in quanto ebrei oppure in quanto omosessuali o disabili insomma i motivi potevano essere vari era forse un aggravante certo ce ne sono stati anche quelli che sono finiti nei lageri in quanto massoni l'astrografia tedesca parla di 900 non sono forse tanti rispetto ad altri gruppi vittima ma teniamo conto che non tanti erano anche i massoni rispetto alla generalità dei perseguitati 900 sono i massoni che perdono la vita in Germania il 10% dei massoni austriaci perdono la vita in Austria dopo il 38 la piccola gran loggia di Vienna era una loggia praticamente popolata solo da ebrei o quasi Richard Schlesinger il gran maestro venne lasciato morire dissanguato in una in una camera d'ospedale dopo l'occupazione del 38 di più la resistenza dei tedeschi proseguirà i massoni tedeschi proseguirà in modo anche piuttosto affascinante perché proprio Leo Mufelmann poco prima di morire riuscirà a espatriare e raggiungere il mandato il mandato britannico in Palestina e ricostituire la sua gran loggia simbolica a Tel Aviv e poi a Haifa è interessante notare che nel 1949 appena nato lo Stato di Israele sulle ceneri di queste logge tedesche venne costituita la gran loggia di Israele ultime considerazioni si riacchiamano chiaramente queste sono altre immagini della propaganda serba si richiamano a due cose anzitutto che proprio alla fine della vicenda e del Terzo Reich assistiamo allo sforzo finale dell'ultimo esponente della persecuzione anti-ebraica le erede di Reinhard Heydrich il terribile Ernst Kaltenbrunner impiccato a Nuremberg nel 1946 il quale riesce a far pubblicare un libello un libretto che era già stato pubblicato negli anni 30 siamo nel novembre del 44 non ci sono soldi per stampare non c'è più niente non c'è neanche la carta per stampare la situazione è drammatica eppure il regime nazista riesce ad avere ancora la forza di pubblicare questo libretto che è un libretto intitolato di Frei Mauerai quindi la massoneria ed è un libro che parla ovviamente di ciò che la massoneria è in negativo è di fatto l'origine di tutti i mali che sta colpendo che stanno colpendo il terzo Reich forze spirituali che segnalamente operano nel campo dei nemici della Germania tra queste c'è la massoneria lo scrive Kaltenbrunner quindi interessante notare come il cerchio si chiuda e si chiude appunto attorno al nome di colui che ha ereditato da Aydrich l'ultima fase tra l'altro quella più violenta della soluzione finale volevo beh qui c'è da parlare dell'antimassonismo franchista ma è un'altra cosa volevo concludere con questo esiste nell'Emsland un ex campo di concentramento che è il campo di concentramento di Esterwegen Germania nord-occidentale è un campo che raccoglie ha raccolto numerosi massoni di tutta Europa soprattutto francesi e belgi ma anche tedeschi come nel caso di Müffel ma anche finì lì per un periodo per un annetto circa in una di quelle baracchie all'insaputa dei cancerieri sette detenuti franco-belgi avrebbero fondato la loggia clandestina Liberté-Cherie dal nome di un canto rivoluzionario francese del 1789 di recente una relegazione massonica dei due paesi è eretto un monumento in ricordo di quell'iniziativa non si vede c'è una squadra del compasso in questa pietra squadrata è una terminologia tipicamente libero-muratoria il versetto che è segnato vicino al monumento che è riportato al quale i massoni della Liberté-Cherie si ispiravano recitava ma un giorno nella nostra vita la primavera rifluirà libertà libertà cara io gli dico che tu sei già in me grazie grazie al professor Cuzzi che è sempre veramente profondo e diciamo è affascinante nelle sue ricostruzioni e nel proporci temi sempre sempre nuovi anche e adesso abbiamo l'ultimo intervento del professor Giovanni Dall'Orto giornalista e storico che è autore di diversi libri sulle tematiche gay tra l'altro che ci parlerà della persecuzione nazifascista degli omosessuali purtroppo avendo avuto qualche problema di salute non può essere con noi ma è con noi diciamo virtualmente quindi lo salutiamo e lo ringraziamo tantissimo chiedo anche a lui come abbiamo chiesto agli altri di essere un po' più sintetico perché siamo andati un po' più lunghi e quindi ci abbiamo dopo la performance teatrale però insomma ovviamente lo ringraziamo tantissimo di essere disponibile nonostante non sia potuto venire qui pronto mi sentite? mi sentite? benissimo grazie si sente? benissimo sì sì grazie e niente il mio organismo sta facendo l'upgrade di tutte le influenze che non ho preso durante il covid e quindi scusatemi devo fare di ferita allora è qualche anno che partecipo all'iniziativa della giornata della memoria io nel 1985 avevo fatto una ricerca presso l'archivio di stato di Roma sulla persecuzione degli omosessuali in Italia durante il fascismo perché c'è stata in Italia non entrerò troppo in dettagli sia per accogliere l'invito a essere breve sia perché ormai immagino che il tema in sé non sia più nuovo come era nell'85 e ci sia la coscienza dell'avvenuta persecuzione e approfitto dell'occasione anche per segnalare che gli ultimi 3-4 anni hanno visto una notevole produzione di libri che adesso mi permetterò di consigliare perché questi libri erano tutti un po' un destino di nicchia diciamo immagino che tutti conoscano il libro di Lorenzo Benadusi Il nemico dell'uomo nuovo che è un po' lo standard sulle persecuzioni fasciste degli omosessuali edito da Feltrinelli purtroppo è fuori commercio ma nelle biblioteche si trova ma ad integrazione di questo lavoro sono usciti diverse opere tra cui segnalo senza altro quella di Cristoforo Magistro a Delmo e gli altri Cristoforo Magistro è andato in Basilicata a fare ricerca negli archivi delle prefetture e ha trovato delle storie umane cioè come vivevano gli omosessuali durante il fascismo ha proposto delle schede con le storie umane di queste persone e recentissimamente è uscito quest'opera stranissima l'isola degli Arrusi si tenga conto che in siciliano Arruso vuole dire Frocio non omosessuale di Luana Rigolli una fotografa che è andata a fotografare tutto quello che aveva relazione con il confino degli omosessuali nelle isole Tremiti e non so come abbia fatto le ha lasciato fotografare anche i fascicoli dell'archivio di Stato comunque per lo storico è un documento sicuramente interessante Gabriella Romano ha fatto un sacco di lavoro sulle storie tra cui il mio nome è Lucy che l'intervista a una deportata da Kau una donna trans l'unica testimonianza che diamo di questo genere in realtà lei è stata deportata per remittenza alla leva ha fatto la transizione di sesso soltanto dopo la seconda guerra mondiale comunque è una testimonianza anche la sua ma particolarmente interessante è il caso di G la patologizzazione dell'omosessualità nell'Italia fascista questo testo è stato fatto come ricerca per l'università inglese se volete il testo inglese è online ed è scaricabile gratuitamente open access infine sempre a cura di Gabriella Romano Baci Rubati che è stata fatta in collaborazione con l'istituto luce ed è un è un cofanetto con dentro dei DVD quindi è materiale audiovisivo e secondo me è molto interessante però siccome ci ho partecipato mi astengo da dare ulteriori giudizi infine questo che è un un altro intervento accademico di Marco Reglia mascolinità devianti dall'ex litorale austriaco all'ex Venezia Giulia se voi cercate Marco Reglia online trovate che anche questa tesi è disponibile gratuitamente con open access quindi la potete scaricare l'ultima cosa è la riedizione degli uomini con il triangolo rosa di Heinz Eger che è un po' un classico perché fu il primo saggio che segnalò l'esistenza di una micro Shoah per gli omosessuali che è stato riedito con una nuova introduzione eccetera eccetera tutto questo per dire questa è roba che è uscita negli ultimi 3-4 anni quindi c'è un interesse verso l'argomento che sicuramente una volta non c'era e sicuramente abbiamo dei dati migliori innanzitutto adesso io non riesco a vedere chi c'è in sala non so se ci sono più studenti o più docenti quindi non so a chi mi devo rivolgere comunque per gli studenti per chi non avesse ancora affrontato il tema la questione è che non è legittimo paragonare la persecuzione degli omosessuali alla Shoah al fenomeno della Shoah e soprattutto c'è una differenza sostanziale tra quello che è avvenuto in Germania e quello che è avvenuto in Italia le differenze sono due la Shoah è un'iniziativa di liquidazione fisica a sterminio di un gruppo sociale i tedeschi decidono che vogliono fare fuori ho sentito un'interessante relazione sull'illuminazione delle persone con disabilità che la Germania in passato ha perso perché aveva una zavorra che le aveva impedito di correre veloce quanto i suoi nemici non è tollerabile correre in condizioni di svantaggio ulteriormente anche perché il confronto è inevitabile con il comunismo con la Russia sovietica e alle porte e quindi bisogna buttare eliminare questa questa zavorra quindi eliminare gli handicappati ma eliminare anche per esempio i grandi invalidi di guerra questo è un tema che ci riempie abbastanza di stupore tenendo conto la retorica bellicista della Germania i grandi invalidi della prima guerra mondiale vengono liquidati anche loro e poi tutte quelle parti della società che vengono considerate il termine tecnico è degenerate la degenerazione non è un giudizio morale come lo intendiamo noi oggi la degenerazione è un concetto scientifico preciso nel pensiero dell'ottocento ed è il processo inverso dell'evoluzione un animale degenera quando torna indietro nella scala dell'evoluzione un maiale a cui crescono i peli ha degenerato perché i cinghiali la forma atavica aveva i peli e l'uomo degenerato torna verso condizioni più scimmiesche come lo è naturalmente il primitivo l'africano sul fatto che i neri siano inferiori sono d'accordo tutti non lo mette in discussione nessuno anche gli antinazisti quello è un dato di fatto oggettivo ma il problema è capire anche tra i bianchi quali siano i superiori quali siano i inferiori noi sappiamo quali furono le conclusioni c'è una scala in cui in cima stanno gli ariani poi ci stanno quelli quasi ariani come potremmo essere noi italiani poi i bianchi inferiori che vanno sterminati che sono gli slavi pochi sanno che Hitler parte direttamente con un programma di sterminio fisico delle popolazioni slave a est il suo progetto è la cosa bella che queste cose le ha anche dichiarate apertamente che la gente non gli abbia creduto fa ridere dopo quello che è successo questi territori vanno svuotati della popolazione e sostituiti con popolazioni di ceppo tedesco lo spazio vitale tedesco ha bisogno di questo paesi come la Polonia o la Bielorussia hanno avuto perdite di popolazione del 15% ma non per accidenti ma perché i nazisti intendono effettivamente sterminare queste popolazioni ma queste però per un po' per due o tre generazioni possono vivere perché comunque qualcuno che pulisca i gabinetti e lavori la terra per i braccianti ce n'è bisogno quindi come schiavi per due o tre generazioni queste popolazioni possono sopravvivere poi ci sono invece quelle che sono proprio un fardello inutile questi sono gli ebrei gli zingari che questi vanno proprio eliminate liquidate fisicamente come il fascismo come il nazismo effettivamente fa altre categorie rientrano in questo ragionamento per vari modi e adesso non ho il tempo per mettermi a discutere sul concetto di degenerazione eccetera ve la butto lì gli omosessuali rientrano nel gruppo dei degenerati perché la non differenziazione del sesso è tipica di forme inferiori di animali adesso magari qualcuno può fare ridere ma sono estremamente seri ci sono delle dissertazioni scientifiche serissime che tendono a dimostrare questo lo pseudo ermafroditismo dell'omosessualità dell'inversione la tesi che l'omosessualità sia uno stato sessuale intermedio tra quello maschile e femminile quindi una forma di ermafroditismo dimostra che è una forma di degenerazione e quindi anche gli omosessuali vanno eliminati ma con un ma ed è qui che dico che non è lecito parlare di Shoah come si è fatto nel 13 anni fa si parlava di omocausto per richiamare l'olocausto parola che all'epoca andava di moda non c'è mai stato un omocausto c'è veramente la differenza notevole tra la Shoah e la persecuzione degli omosessuali in quanto il regime nazista si propone di distinguere tra coloro che sono degenerati e coloro che sono dizioni e nei 15 anni che ha il governo non riesce mai a decidersi sul fatto perché nota il fatto che esistono persone come per esempio i prostituti che riescono ad avere attività omosessuali pur non essendo omosessuali essi stessi e ovviamente rifiutando a priori l'ipotesi dell'ebreo Freud della bisessualità umana della bisessualità originale ne conclude che queste persone sono viziose sono persone che per denaro e per vice sono diventate omosessuali come distinguerle perché comunque sangue tedesco se sono viziosi vanno rieducati quindi il nazismo oscilla continuamente tra il desiderio di sterminare e la decisione di rieducare e la sorte di decine di migliaia di persone è dipesa dalla fortuna dal caso di essersi trovati in una situazione in cui in quel momento il nazismo voleva rieducare o preferiva liquidare direttamente c'è stato un periodo in cui le persone hanno avuto gli omosessuali hanno avuto salva la vita attraverso la castrazione la sterilizzazione perché in quel periodo bastava l'idea di averli tolti dal pool genetico tedesco mantenendo le loro capacità di ariani al servizio della nazione altri periodi in cui gli arrestati sono finiti direttamente ad Auschwitz c'è un libro di Rudolf Hörst intitolato Comandante ad Auschwitz prodotto da Einaudi in cui descrive con una naturalezza con una chiarezza il fatto che lui ha ricevuto gli omosessuali per farli fuori nel senso questi povere creature fragili durano poco gli muoiono come mosche lui le ha lì ma sono esseri incapaci di sopravvivere e gli muoiono tra l'altro si è appreso che questo memoriale che è stato scritto durante il processo di Nuremberg è stato censurato perché le autorità americane l'hanno ritenuto troppo crudo nella parte che parlava degli omosessuali quindi chissà cos'altro ha detto Hörst chissà quando uscirà la versione completa morale della favola negli anni passati sono stati fatti moltissimi studi in Germania specialmente dopo la capitale della Germania Est perché tutti gli archivi nazisti erano a Berlino Est e dalle cifre iniziali si parlava di un milione di vittime dell'homo caosto si è scesi via via fino a 100.000 si è poi notato che i processi erano stati meno di 100.000 alla fine la cifra data per attendibili dagli studiosi tedeschi che hanno preso visione dei registri che sono sopravvissuti molti sono stati distrutti intenzionalmente però come stima si va dai 15.000 omosessuali decisi durante la Shoah e una stima di 30.000 tenendo conto dei registri che non ci sono arrivati quindi una quantità di persone che è infinitamente minore e soprattutto una percentuale di persone perseguitate è infinitamente inferiore tenete conto che c'è un famoso discorso di Himmler all'SS in cui parla tra uomini di quello che deve essere l'atteggiamento del nazionalsocialismo verso gli omosessuali in cui si stima che gli omosessuali in Germania siano un milione due milioni in realtà probabilmente erano di più ma non è questo il punto il punto è se i nazisti sapevano che ce n'era un milione e ne hanno internati nei lager 30.000 loro stessi sapevano di non stare lavorando per uno sterminio fisico di tutti entra il fascismo con le leggi razziali del del 36 gli omosessuali per scimiotare il nazismo anche noi abbiamo voluto le nostre belle leggi razziali perché il nazismo sembrava la comotiva e noi abbiamo voluto per forza attaccarsi alla comotiva quindi abbiamo inventato un razzismo casareccio e uno strano e abbiamo scoperto che gli omosessuali erano dei degenerati e quindi viene diramata una una circolare viene viene deciso che da quel momento gli omosessuali erano dei nemici politici dello Stato da processare con i tribunali politici questa questa legge non ha un gran risultato quando io andai all'archivio di Stato alla fine sono venuti fuori non più di una novantina di casi di confinati politici omosessuali che sono quelli che avevo studiato io quando però appunto Benadusi e Magistro si sono messi a fare la conta dei casi di confinati comuni si è veramente aperta una una cesta piena piena di cose la maggioranza degli omosessuali continuarono a essere mandati al confino comune è però significativa questa parentesi del confino politico degli omosessuali perché fu l'unico momento in cui il fascismo italiano tentò di dare una risposta a cosa fosse l'omosessualità senza riuscire a trovarla tra l'altro la cosa divertente e buffa che non riuscì a trovarla il problema fondamentale del fascismo è che vivendo di filosofie rubate prese in prestito da altri sulla questione sessuale fa un minestrone tra conservatorismo ottocentesco moralismo cattolico autoritarismo c'è dentro di tutto e con dentro anche un'eredità positivista ottocentesca che sostiene la non punibilità del malato tu non puoi punire qualcuno perché fa qualcosa che è la sua il debole di mente che non si rende conto di stare compiendo un reato non può essere giudicato come qualcuno che è nel pieno possesso delle sue facoltà e il fascismo oscilla selvaggiamente tra queste diverse concezioni per cui alla fine nella mia impressione nelle cose che ho studiato io viene fuori che quello che prevale è il il moralismo maschilista grassoccio italico che prevale ancora oggi un paradosso che io dico sempre quando faccio queste conferenze è che molti pensano che l'Italia sia omofoba perché è cattolica mentre invece quello che vedo della storia è che forse l'Italia è cattolica perché omofoba nel senso che il cattolicesimo fornisce una giustificazione morale etica teologica filosofica a un sentimento che è viscerale di base e il fascismo applica fondamentalmente questo al di là delle giustificazioni psicologiche teologiche filosofiche la persecuzione del diverso chi comporti in modo diverso dagli altri se è una minaccia alla società proprio perché mostri delle possibilità di vivere diverse da quelle che noi abbiamo deciso di essere le uniche ammesse l'omosessualità è una minaccia ai ruoli di genere così come sono stati codificati santificati dalla chiesa dal matrimonio dalle leggi dallo Stato e quindi ti puniamo per questo poi dopo cercheremo delle motivazioni scientifiche di tipo razziale eccetera però il punto è che noi ti vogliamo punire per quale motivo lo decideremo poi a dimostrazione di questo fatto abbiamo la circostanza che nel 1939 quando inizia la seconda guerra mondiale tutti i confinati politici omosessuali vengono rimandati a casa sotto sorveglianza con il confino con l'obbligo di andare tutti i giorni a firmare le carabinieri per carità però vengono rimandati a casa perché le località di confino politico servono per i veri oppositori del regime che vengono mandati al posto loro quindi quella del confino politico degli omosessuali è un esperimento che dura soltanto tre anni la vera modalità di persecuzione degli omosessuali fu il confino comune che è durato anche dopo il fascismo è stato abolito dalla corte costituzionale a guerra ampiamente finita come misura di prevenzione del crimine io chiedo cortesamente di dirmi quando è finito il tempo perché non non ho tenuto non ho tenuto conto più o meno è finito più o meno è finito sì 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 è finito allora ho tre quattro minuti o devo chiudere anche magari anche un attimo meno quanto quanto riesce davvero perché grazie allora sarò sarò telegrammico facendo il giornalista mi sono abituato due questioni che mi vengono poste spesso dai più giovani le persone trans e le lesbiche come rientrano in un universo concentrazionario nazista la cosa che faccio fatica è far capire le generazioni più giovane che la storia va fatta con gli strumenti di analisi del periodo che stiamo analizzando per i nazisti omosessuali e transessuali o transgender sono la stessa identica cosa sono tutti invertiti quindi non prevedono un trattamento specifico per le persone transgender vengono mandati nei lager come omosessuali o scusate come omosessuali secondo del destino ma non è previsto una cosa di genere lo stesso discorso vale per le lesbiche è vero che siamo a conoscenza di alcune persone asociali i famosi triangoli neri c'è stato un accenno parlando delle politiche di genere sotto il nazismo alcune di loro delle donne che sono state nominate sono delle lesbiche asociali inguaribili incurabili che magari hanno cercato di sposare un'altra donna ne ha fatte veramente grosse ma il nazismo non considera il lesbismo come pericoloso perché nella mentalità scusatemi ragazzi il nazismo ragiona da nazista il nazismo ragiona da nazismo e quindi secondo loro la sola sessualità che conta è quella maschile due donne insieme sono come due zeri insieme ci vuole l'uno del maschio per fare un 10 o un 100 eccetera e quindi non è prevista una persecuzione specifica per le donne perché le donne sono già prese di mira in quanto donne ci sono delle leggi e quelli che sono più giovani probabilmente trascurano l'importanza che ha il lavoro nella vita di una persona perché sono ancora studenti sul fatto che è proibito assumere più di una certa percentuale di donne in un posto di lavoro è proibito dare un certo stipendio è proibito pagare una donna quanto un uomo queste leggi sono fatte nell'esplicita intenzione di non permettere a una donna di mantenersi da sola se non c'è un uomo che la mantiene che può essere o il padre o il marito ma una donna da sola non deve essere in grado di mantenersi è in questo modo che il nazismo ha pensato a risolvere la questione del lesbismo sarei anche lesbica sì magari nei bordelli fai divertire i clienti con due prostitute insieme in una volta ma non ci preoccupi perché la sessualità è una cosa di maschi quindi tu da donna da sola non ne fai niente questo è il motivo per cui non esiste una persecuzione specifica contro le lesbiche mentre esiste una politica schiacciante contro le donne che devono essere relegate alle 3K cucina chiesa e bambini quindi quando si affronta la storia e ho finito bisogna vederla con l'ottica del periodo in cui è avvenuta non con la nostra ottica non è che siccome noi oggi vediamo delle distinzioni tra gay lesbiche e trans ci devono essere tre triangoli distinti nei lager ce n'è uno solo quello rosa e così è fatta la storia e ho finito grazie benissimo allora nessun commento finale solamente un grazie veramente di cuore a tutti i relatori e le attrici bravissime bravissime e adesso non è finita però la nostra mattinata perché abbiamo la performance teatrale di Carolina De Castiglioni che adesso presenteremo e quindi chiedo ai relatori di scendere dal palco perché aspettiamo la nostra attrice grazie 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 e quindi l'abbiamo diciamo declamata la sua biografia si è laureata negli Stati Uniti è una diciamo ormai un'attrice una performer affermata e la cosa però che vi volevo raccontare è che abbiamo appunto l'abbiamo sperimentata il 25 novembre in occasione di una giornata della violenza contro le donne ed è veramente stata talmente brava e talmente ci ha talmente affascinato che appunto l'abbiamo chiesto di lavorare per noi anche per la giornata della memoria quindi sono particolarmente lieta che poi diciamo di avere questa performance e quindi adesso appena sarà pronta la sala lei sarà diciamo inizieremo appunto la sua la 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 mi raccomando zitti e buoni parlate solo se interpellati e non protestate buondì stella brambilla e questi sono francesco caterina e luca new york scopo beh ha mai sentito parlare di berdorf goodman pare sia un nuovo centro commerciale che vende capi di alta moda ma provenienti da tutto il mondo dovrà assolutamente portarci la sua signora no mio marito non viaggia con noi ma ci raggiungerà non appena avrà terminato alcuni affari che lavoro fa oh cielo oh cielo oh la prego non mi giudichi una terribile moglie ma la realtà è che tra pannolini questi due che si azzuffano di continuo e la casa non non mi occupo più di mio marito come dovrei penso sia un dipendente sì in un'azienda quale azienda la prego non mi chieda il nome che è stento mi ricordo il mio dove va? un ulteriore controllo? certamente l'aspetteremo qui Milan mi raccomando stami vicino che qua è facile perdersi non spingete oh non spingete tata aspettaci siamo bez panike in propuste malo diecu in jene ne moite da se ne to a diete in sgubbi ne moite se ništa nico vam ne c'è ništa ura guarda Milan ci sono anche i caschi blu non succederà niente vedrai dobbiamo solo seguire gli ordini salire sugli autobus e andrà tutto bene siamo tre mio fratello ha 14 anni mio padre 56 no scusi perché non possiamo stare insieme? perché un ulteriore controllo? no le assicuro che non fanno parte delle milizie locali li guardi e poi per giunta sono disarmati no non volevo assolutamente contraddirla posso almeno aspettare che abbiano finito il controllo mi garantisce che poi ci ritroviamo benvenuti nel centro di rieducazione di Tekes ci auguriamo che la vostra permanenza possa elevare il vostro spirito ed eliminare ogni possibile traccia di terrorismo a breve vi verrà assegnato un numero durante la permanenza risponderete solo al numero durante la permanenza potrete parlare con i vostri familiari una volta ogni 10 giorni per 10 minuti in una videoconferenza sorvegliata qualora vi ammaliate durante la permanenza non è previsto il trasferimento in ospedale qualora vi ammaliate gravemente durante la permanenza è previsto il trasferimento in ospedale da effettuare con gli occhi bendati con la presenza di due guardie durante la vostra permanenza è severamente vietato opporsi lamentarsi contraddire o rinnegare qualsiasi metodo utilizzato all'interno del centro di rieducazione di Teches siamo convinti che dopo aver sperimentato il nostro efficientissimo programma riusciremo insieme a riportare la stabilità nello Xingyang tutto regolare possiamo imbarcarci la ringrazio signorina scusi ma cosa sta succedendo? non possono partire perché? sono ebrei capisco sì veramente gente deplorevole andrà tutto bene ne sono sicura ne sono sicura andrà tutto bene io toglierlo veramente non va grazie a tutti Il mio padre non è un terrorista! 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 Mussolini era, sì, un politico duro, ma non disumano! Feci una cosa che, da ossequiosa delle leggi qual'ero, non mi sarei mai sognata di fare. Procurai alla mia famiglia dei passaporti falsi, vendetti tutti gli immobili ai miei intestati, feci le valigie, mi imbarcai sulla Saturnia e non mi voltai mai indietro. Attesi per anni mio marito, ora so che il suo è uno tra i tanti corpi bruciati in quei luoghi dimenticati da Dio. Presto non ci sarò più, un giorno anche i miei figli se ne andranno. Per cui vi chiedo di ricordare, per noi, l'orrore che si impossessò delle menti e dei cuori in quegli anni, in modo che il genocidio che accadde non possa più verificarsi. Nel 95 mi sono fidata di chi non avrei dovuto. Ero convinta che tale crudeltà non sarebbe mai più potuta accadere. Che la distruzione di un intero gruppo religioso non sarebbe mai più stata permessa. Srebrenica era zona protetta. Ma gli olandesi mandati dall'ONU hanno preferito i privilegi concessi dal generale serbo Mladic alle nostre vite. Mio padre e mio fratello fanno parte degli 8.000 uomini musulmani uccisi e dispersi nelle fosse comune e dei loro corpi smembrati non resta nulla. Io sono fortunata. Sono sopravvissuta. Non solo alla morte, ma anche alla violenza perpetrata sul mio corpo da serbi, olandesi, a volte da serbi olandesi nello stesso momento. Non è facile parlarne. Lo faccio perché ho paura. Ciò che è successo a Srebrenica rischia di non essere l'ultimo genocidio. solo uno tra i tanti. Nel 2022, 14 testate internazionali hanno pubblicato alcune foto di due centri di rieducazione nell'Oxingyang. In una di queste foto ci sono io. Mengru. Ho 14 anni. Sono la più giovane internata. Arrestata perché appartengo ad una minoranza etnica. Gli Uiguri. Mi piacerebbe dirvi un giorno sono libera. È tutto finito. Non succederà più. Ma ho studiato l'Olocausto. E so cosa è successo in Bosnia. So che in futuro ci saranno milioni di persone come me. perché la storia si ripete sempre due volte. È la prima come tragedia. È la seconda come farsa. Me l'ha insegnato un filosofo. Dobbiamo studiare questo passato. Che passato non è. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia l'orrore. Soprattutto dobbiamo parlarne. Perché di silenzi si muore. e facendo rumore, forse, abbiamo ancora qualche speranza. Grazie mille. Grazie mille. Grazie ancora. Oh, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie un certo davvero. Grazie Marily. Siete qui. Grazie. Grazie mille. Grazie davvero. Sì. Grazie. Grazie mille. Buongiorno. 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 comunque grazie alla regia e grazie a tutti quelli che hanno consentito la realizzazione di questa macchina poi vi aspettiamo grazie mille grazie grazie grazie